buongiorno a chi ci ascolta soprattutto da lontano questo è il terzo seminario della società della ragione che si svolge a treppo carnico quest'anno probabilmente la scelta è ancora più giustificata per prepararci all'esilio forse ma a parte questo questo motivo il il nostro seminario ha avuto qualche vicissitudine non pensavamo che ci fossero quando abbiamo stabilito la data che ci fossero fra una settimana le elezioni anticipate e questo ha comportato difficoltà per la partecipazione di persone previste che sono impegnate in questa difficile scadenza elettorale ma abbiamo pensato di mantenere l'appuntamento forse a maggiore ragione perché il tema che viene proposto ha a che fare proprio con una crisi profonda della democrazia in italia e quindi abbiamo l'ambizione di offrire anche elementi di riflessione per non solo per e non tanto per l'appuntamento elettorale ma soprattutto per preparare materiali di riflessione di iniziativa politica dopo il risultato elettorale il nuovo parlamento il nuovo governo la società della ragione ha pubblicato ormai un anno fa se non sbaglio un volume contro gli ergastoli che è una questione legata in parte a quello di cui parleremo oggi quindi il ruolo della corte costituzionale ad esempio è la corte che ha dichiarato in costituzionale l'ergastolo stativo ma poi dato al parlamento una un tempo per decidere e poi una proroga e adesso l'otto nove novembre otto novembre ci sarà una nuova decisione della corte costituzionale per decidere se dare il via alla pronuncia di incostituzionalità o dare una nuova proroga al parlamento per decidere anche questo costituirà un problema rilevante dal punto di vista istituzionale quindi il i nostri lavori molto intensi oggi pomeriggio che inizieranno con prima l'introduzione di grazia zuffa presidente della società della ragione poi la relazione di andrea pugiotto e con un intervento da remoto di riccardo magi poi ci sarà tempo di discussione questo non è una non è un convegno è un seminario di lavoro perché poi probabilmente alla fine dei tre giorni i materiali potranno costituire anche un la pubblicazione di un volume su questi temi della crisi a partire dal crisi dell'istituto del referendum la crisi del parlamento la crisi dei partiti e dei movimenti pensiamo anche che ci la crisi dei movimenti dei partiti in una regione a statuto speciale con una tradizione di autonomismo può avere anche qualche suggestione originale nuova questo il alcune parole di introduzione il ovviamente chi è collegato non parteciperà a una cena carnica questa sera e neppure a quella di domani sera ma non possiamo se non forse fare una descrizione del menù successivamente e io penso che possiamo a questo punto sono in arrivo certo numero di di persone ma proprio anche tenendo conto che c'è in atto un collegamento pensiamo sia il caso di comunque iniziare i nostri lavori quindi grazie ai presenti che per ragioni appunto derivanti dalla obiettivamente anche dalla difficoltà della di raggiungere treppo carnico arriveranno anche il credo che ci sia collegata o trasmetterà la i lavori radio radicale quindi ringraziamo come tradizione questa aiuto di comunicazione quindi il forse già possiamo dire che domani il la mattinata sarà dedicata alla crisi del parlamento con la relazione del professor salvatore curreri e il controcanto con marco boato e poi nel domani pomeriggio la crisi dei movimenti dei pari e del fare politiche dei partiti con gli interventi di maria luisa boccia e piero ignazzi ecco mi pare d'aver detto tutto quello che poteva servire per rompere il ghiaccio e quindi la parola grazie a zuppa allora intanto saluto tutti amici vicini e lontani come si diceva una volta e come di nuovo è diventato all'ordine del giorno oggi allora io ho solo il brevissimo compito di spiegare un po come è venuta avanti la scelta di questo tema per il seminario di treppo anche perché appunto è un tema un po diverso dalle battaglie culturali e politiche tradizionali di questa associazione già Corleone appunto ha citato il tema dell'ergastolo l'anno scorso abbiamo approfondito il tema del superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario insomma chi lo conosce lo sa la riflessione è partita dall'impegno proprio dell'associazione in particolare di alcuni di noi sul referendum sulla cannabis e anche sul referendum sull'eutanasia e quindi da qui che abbiamo ragionato abbiamo ragionato sia come poi potete vedere poi anche nel nel fascicolo e documentazione sulle ragioni adotte per dalla corte per respingere per esempio il referendum sulla cannabis e quindi abbiamo controbattuto nel merito siamo stati anche partecipi di una riflessione più generale in diversi seminari su come la corte nel tempo ha interpretato il potere di ammettere non ammettere il referendum che naturalmente è una già diciamo un gradino diverso ma soprattutto quello che ci ha più spinto è il rendersi conto che in questo caso erano stati respinti i referendum che più avevano avuto il consenso popolare e che quindi a nostro avviso aveva un particolare significato politico tra parentesi il referendum per l'eutanasia già l'ha accennato corleone è in corso diciamo lo stesso percorso del che c'è per l'ergastolo stativo cioè in pratica è come dire un compito che la corte richiede e al parlamento è quindi sì sì si è in qualche modo ripetuto questo schema senza che ci sia stato nessun esito e quindi diciamo erano due questioni che in qualche modo già cominciavano nella nostra riflessione a intrecciarsi e che vedevano in maniera nuova anche il rapporto tra il referendum e il parlamento e devo dire che una riflessione un po' più generale già era stata innestata diciamo prima del del anche del respingimento della corte rispetto alla nuove possibilità che si aprivano per la raccolta delle firme telematiche e già questo aveva innestato un dibattito ecco quindi siamo partiti da qui cominciando già a cogliere appunto due punti di crisi per vedere di affrontare quella che affrontiamo oggi una riflessione più complessiva su tutti i pilastri del sistema democratico io voglio dire solo ragionare solo su un concetto fra i tanti naturalmente che saranno affrontati in questo seminario e scelgo quello che è più significativo per un'associazione cioè per diciamo per un'associazione che è collocata diciamo nel momento dell'elaborazione del basso delle idee è in qualche modo diciamo siamo alla base del con l'associazione dell'elaborazione delle idee e promozione di iniziative diciamo direttamente il nel corpo sociale e quello appunto il concetto che voglio sottolineare e che già pugiotto ha ha espresso nel nell'articolo con cui ha presentato questo seminario sul reformista è il processo di verticalizzazione della politica diciamo c'è uno spostamento di accento un progressivo spostamento di accento perché questo non è un fenomeno moderno diciamo né un fenomeno di oggi né di diciamo ma e di ieri e anche dell'altro ieri direi dal momento della elaborazione delle idee per il governo naturalmente per governare il paese e non solamente più in generale diciamo di elaborazione delle idee che la democrazia vorrebbe che coinvolgesse il maggior numero possibile di cittadini e cittadine e lo spostamento è verso il momento della decisione politica del governo inteso sempre più come il management della cosa pubblica di mezzo trascurato in qualche modo travolto e anche questo diciamo dalla riflessione è il momento del parlamento inteso il parlamento come confronto fra idee diverse quindi siamo sempre diciamo come amava dire come forse ripeterà domani marco boata al momento del parlare del confronto nel senso di parlare confrontare le idee con chi nello specifico la pensa anche diversamente da noi e diciamo quindi dal mio punto di vista mi verrebbe da dire il progressivo indebolimento appunto delle idee di forma dei momenti di formazione delle idee dal basso e il venir meno dei canali di comunicazione e col parlamento e con il livello decisionale processo che potrei dire molto su questo anche a partire diciamo dalla nostra esperienza dalla sempre maggiore difficoltà a trovare proprio interlocuzioni il con anche con singoli parlamentari non dico con gruppi addirittura poi con singoli parlamentari e quindi da e da questo punto di vista il fatto che ci troveremo di fronte come è stato scritto a un parlamento di nominati certamente è un ulteriore aggravarsi in qualche modo di questa crisi per non dire che poi si rimane stupefatti rispetto alla non saprei neanche come definirla tra superficialità e stupidità diciamo di del vasto arco di forze politiche che ha approvato il taglio dei parlamentari parlamentari senza alcuno sforzo di ridisegnare un sistema a cominciare dal sistema elettorale per appunto salvaguardare la democrazia nel senso per per salvaguardare il la comunicazione con gli elettori il rapporto con il chi il chi li vota con chi li elegge ecco quindi per per finire noi avete visto nella presentazione del seminario abbiamo messo in evidenza lasciamo il l'ambivalenza del termine crisi come da una parte sguardo critico sul declino e dall'altra occasione di trasformazione e prendendo proprio naturalmente questo secondo significato cioè l'occasione di trasformazione è evidente che questo sta particolarmente a cuore appunto per un'associazione impegnata nel sociale e credo che anche proprio perché siamo impegnati nel sociale proprio perché anche siamo impegnati diciamo su battaglie su un vasto arco per la verità di battaglie di libertà ma comunque sempre con un riferimento ben ben ad argomenti ben preciso però è importante che anche in generale diciamo su il tema più generale della crisi del sistema democratico ci sia un pensiero come quello delle nostre associazioni che è radicato nell'esperienza che è radicato nel fare politica proprio diciamo a risottolineare un'idea secondo me importante della democrazia che di costruzione di un pensiero dell'elaborazione che ha collegamento col fare e che parte dal fare insomma diciamo con un percorso in doppia direzione. Io ho finito credo che nel frattempo sono arrivate molte persone fra cui Marco Perduca dell'associazione Luca Coscioni che se è pronto inviterei a fare il suo intervento. Buonasera scusate il ritardo è stata una serie di di concause. L'intervento è anche a nome di Filomena Gallo che avrebbe voluto essere con noi ma in queste ore sta per tenersi una conferenza stampa che credo in parte ci riguarda. Il governo si è costituito contro il ricorso che la lista referendum e democrazia ha fatto presso il Tribunale Ordinario di Milano perché venissero accettate le firme raccolte digitalmente e il documento che è stato preparato dall'Avvocatura dello Stato potrebbe essere messo agli atti di questo nostro dibattito perché si gioca la carta della ragion di Stato contro il riconoscimento di un diritto costituzionalmente garantito e di un sistema tecnico che è praticamente già sperimentato l'estate scorsa quando sono state raccolte in poche settimane quasi 900.000 firme digitali a sostegno di due quesiti referendari. Damani però ci siamo sentiti con Filomena anche per commentare l'ottima introduzione che è stata pubblicata dal riformista scritta dal professor Pugiotto che se non fosse stato per quella parte relativa alle firme digitali, non scherzo, sposiamo totalmente. Uno dei motivi per cui abbiamo accolto da subito l'invito a essere non solo presenti ma anche promotori di questo incontro è che grazie a una frequentazione più assidua con la società della ragione negli ultimi mesi, diciamo almeno 12 mesi, siamo riusciti a far suscitare cose che in Italia non accadevano da molti anni e che hanno aiutato la parte di riflessione sempre agganciandola a un'azione concreta in cui partendo dal dettato costituzionale abbiamo posto al centro del dibattito politico ma anche civile perché comunque non che si sia stati invitati ai grandi talk show della televisione o delle radio ma siamo riusciti a suscitare anche grazie a giuristi che da sempre sono attenti a determinati tipi di questione come la democrazia partecipativa, la democrazia diretta e speriamo un domani anche la democrazia deliberativa e spero che nelle prossime ore se ne possa parlare anche qua cose che non accadevano ma che dovrebbero invece essere la norma nel nostro paese e spesso abbiamo utilizzato proprio come titolo il ritorno alla costituzione come faro del nostro operare e è per questo che la crisi tra le varie interpretazioni che anche adesso Grazia ricordava ce n'è una che dice che è arrivato il momento di scegliere e piuttosto che scegliere il canto della piazza che ci dice che la nostra costituzione è la più bella del mondo tra l'altro non si sente più nemmeno cantare questo tipo di cose e che verrà difesa con le manifestazioni di piazza o come è stato visto fare anche occupando il tetto della Camera dei Deputati noi ci siamo assunti la responsabilità invece di farla vivere attraverso una serie di azioni che sono una via di mezzo fra il politico da una parte e l'attivazione delle giurisdizioni dall'altra non occorre ricordare qui che se la cosiddetta legge fini giovanardi nel 2014 è stata dichiarata incostituzionale per alcune sue parti è merito di un ricorso preparato da degli avvocati militanti che ha fatto tesoro di approfondimento proprio all'interno di questo tipo di incontri di oggi quindi la proposta comunque offriamo per certi versi a questo dibattito di questo giorno e mezzo due non vorrei dire un ulteriore elemento di riflessione perché comunque c'era già negli scambi che abbiamo avuto con Grazia e anche in quello che Andrea scrive da sempre mi verrebbe da dire ma insomma comunque in particolar modo negli ultimi tempi la necessità di veramente porci come faro questo ritorno alla Costituzione in particolare sono 15 mesi che parliamo dell'articolo 75 della Costituzione ma molti altri se ne potrebbero evocare in una campagna elettorale dove paradossalmente chiunque letteralmente chiunque può partecipare perché fino al momento del deposito del simbolo la nostra normativa è la più liberale al mondo io sono andato un venerdì dalla notaia ho creato un'associazione che si chiama lista referendum e democrazia ho nominato cappato leader della lista e poi ho scritto un programma che è stato allegato alla dichiarazione di trasparenza e sono andato al Ministero dell'Interno a depositare un simbolo dal momento in cui sono uscito però dal Ministero dell'Interno si sono creati dei problemi e uno dietro l'altro hanno creato una montagna insormontabile per chi non fa parte del gioco ecco siccome la nostra Costituzione deve valere per chiunque, dovunque si trovi ad operare sul territorio nazionale prepareremo un ulteriore documento che quasi a ciliegina su una torta piuttosto avariata continuerà a dimostrare che non si rispettano i diritti previsti dalla nostra Costituzione e molto spesso non li si possono godere questi diritti perché ci sono delle norme che li limitano norme che sono state stigmatizzate l'ultima volta dal Comitato ONU delle Nazioni Unite sui diritti umani nel 2019 quando ha evidenziato proprio a seguito di una raccolta firme referendaria non è andata a buon fine nel 2012 degli irragionevoli ostacoli al godimento dei diritti civili e politici nella Repubblica Italiana in quel caso si parlava appunto di possibilità di partecipazione non soltanto evidenziando come la legge del 1970 avendo 50 anni comunque andrebbe aggiornata se non altro a quello che altri trattati internazionali dicono essere il progresso scientifico e le sue applicazioni e sicuramente tutto ciò che ha a che fare con la cittadinanza digitale rientra in questo tipo di diritto riconosciuto e poi anche l'attenzione o disattenzione di qualcosa che in Italia si chiama servizio pubblico radio televisivo e che totalmente non consente la conoscenza di chi fa qualcosa si continua a fare la cassa di risonanza dei chi già c'è e un esempio abbastanza lampante mi pare essere queste ferie della RAI che sono andate avanti malgrado fossero state sciolte le camere il 25 di luglio o quando era e che sono riprese la settimana scorsa fortunatamente al nostro interno abbiamo non soltanto chi pensa e chi scrive ma anche chi fa e io credo che il bilanciamento fra questi due classiche atteggiamenti repubblicani del pensiero e delle azioni possano continuare a essere i nostri diciamo così fili conduttori ponendoci però forse un altro ulteriore problema se ne parlava prima in macchina salendo da Udine e cioè noi abbiamo a che fare con delle norme di un certo tipo che sono frutto spesso anche della qualità del dibattito politico e quindi della classe politica e dirigente di questo paese da ormai abbondanti 30 anni e siccome siamo tra i pochi che continuano anche a scrivere dei libri oltre che a fare dei convegni io credo che un ulteriore impegno e ce l'eravamo posto anche in sede di forum droghi relativamente al coinvolgimento delle nuove generazioni che si possano interessare di antiproibizionismo deve essere investito comunque delle risorse umane ancora prima che finanziarie ma poi si può anche cercare del danaro necessario per far questo per tornare a come dicono gli inglesi a fare outreach cioè cercare di coinvolgere chi da una parte non puoi non avere come interlocutore e cioè i rappresentanti delle istituzioni ma dall'altra anche le università i gruppi studenteschi cosa che magari oggi esistono e noi non sappiamo perché cominciamo ad avere una certa età ma che sono attivi e assetati o affamati di cose da discutere a me se domani mi venisse come mi è successo ieri l'altro un ventenne e mi dicesse per chi voti ecco io gli ho già risposto e non ci interessa magari dire qui per chi voto ma se lo volete sapere io non vado a votare per la prima volta nella mia vita che è una vita un po' particolare perché ho iniziato a fare politica praticamente non dico a vent'anni ma poco dopo quindi secondo noi qui la crisi è una crisi in cui credo che noi abbiamo da sempre identificato quali fossero da una parte i problemi per un'analisi complessiva del contesto e della congiuntura ma è anche una crisi in cui forse bisogna tentare di scegliere con una maggiore non dico convinzione perché quella c'è ma dedizione gli argomenti o i temi su cui concentrarsi e cioè o dare per persa fino a una vera e propria crisi di sistema la parte delle assemblee elettive e quindi quel tipo di decisione politica e concentrarsi su un altro tipo di decisione politico che sono le giurisdizioni oppure laddove si dovesse insistere visto che abbiamo ancora fortunatamente dei ex parlamentari di lungo corso di grande competenza e attività tra di noi di voler interloquire con il legislatore più classicamente inteso come il potere legislativo del Parlamento ci aspettano cinque anni non lo so ma sicuramente qualche mese o anno di strada in salita molto ripida e credo che per quanto avremo sicuramente qualche amico qua e là non dovremmo fare più sconti a nessuno perché non dico che siamo stati presi in giro ma insomma abbiamo visto che nel momento del bisogno sono scomparsi letteralmente tutti tranne uno che spero interverrà nelle prossime ore ma uno su 945 è veramente poco e speriamo che questo uno continui a esserci anche nella diciannovesima diciottesima cos'è legislatura ma non si può pretendere di andare avanti così con delle conferenze stampa di annuncio di cose che non si realizzano quindi laddove riusciremo a suscitare delle alleanze trasversali o comunque diciamo ad ampio spettro o ingaggiare persone nel dibattito poi però dovremo fare i cani o i gatti da guardia perché in effetti le cose si facciano anche perché non ci siamo mai sottratti al contributo proattivo e anche all'insistenza ossessiva su determinati temi e con determinati anche argomenti ad adiuvandum che sono proposte di legge perché se ne scrivono spesso emendamenti, appelli, iniziative non violente e pubblicazioni e partecipazioni al dibattito pubblico diciamo si entra forse oggi a una sette, dieci giorni dall'elezione con un bicchiere più che mezzo vuoto secondo me speriamo che domenica sera si sia almeno raggiunta la metà di pienezza di, non dico ottimismo, ma insomma di un pacchetto di proposte che ci possano portare avanti un'ultima cosa volevo dire grazie al lavoro, ai suggerimenti noi siamo rimasti ancora un po' sospesi con una decisione che dovremo prendere presto relativamente alle sentenze della Corte Costituzionale su l'inammissibilità dei referendum in particolare al referendum cannabis visto che si apre un nuovo periodo in cui il Presidente Amato ha detto che per qualche tempo starà zitto l'ha detto oggi è uscita una dichiarazione e che comunque alla veneranda età di 86 anni non ambisce a fare altro che non si sa che cosa sia ma insomma ecco c'eravamo posti questo orizzonte temporale per tornare a riparlarne non so se questo è il luogo deputato o più adatto ma occorre ancora una volta ancora di più sulla scorta di tutto quello che poi è stato continuato a essere condiviso come motivazioni ex post per l'inammissibilità e ulteriori uscite di cui sopra io credo che si debba insistere perché solo da lì si può sperare che possa arrivare qualcosa di chiamiamolo innovativo rispetto invece al poco politico che ci caratterizza grazie scusate io ho 10 minuti di conferenza stampa che faccio dietro l'angolo ma torno subito mi prendo la parola da solo Presidente Presidente Latitante allora buongiorno a tutti sono stato invitato a svolgere una riflessione sulla crisis dell'istituto referendario lo farò muovendo da due premesse che intendo esplicitare subito la prima è una precomprensione teleologica preannunciando questo seminario sulle pagine dell'Espresso del 7 agosto scorso Franco Corleone ne ha dichiarato apertamente lo scopo e cioè superare la crisi degli strumenti di partecipazione politica rilanciandoli al fine di farne vettori per una agenda della democrazia da presentare alle nuove camere ora coerentemente con questa regola di ingaggio quanto dirò mirerà restituire all'iniziativa popolare abrogativa un'agibilità smarrita da tempo e lo farò anche essendo questo un seminario in maniche di camicia arrotolate almeno Marco così proponendo anche mirate proposte di riforma dell'istituto d'altra parte come già dicevano Costantino Mortati e Aldo Moro in assemblea costituente riconoscere in costituzione un istituto come il referendum significa ammettere la possibilità di un oiato fra Parlamento partiti e opinione pubbliche e dunque rivitalizzare lo strumento del referendum è uno dei modi per superare la crisi per recuperare il momento della partecipazione del controllo diretto dei cittadini sulla decisione politico-parlamento questa è la prima premessa la prima precomprensione teleologica la seconda è una precomprensione ideologica che potrei sintetizzare così meglio Locke di Russo sono convinto che l'antiparlamentarismo sia l'anticamera di ogni fascismo sono convinto che il mito della democrazia diretta all'insegna della parola d'ordine uno vale uno sia la distopica fantasia di tutti i nemici della liberal democrazia ecco perché nella mia riflessione il rapporto fra la legge parlamentare e il referendum popolare sarà assunto non in termini di contrapposizione strutturale e funzionale bensì di coesistenza dialettica come del resto la nostra Costituzione richiede se è interpretata correttamente Costituzionalmente infatti non si dà alcuna indebita interferenza tra il ricorso dello strumento referendario e l'esercizio della funzione legislativa io posso intendere il referendum come uno strumento eccezionale che deve innestarsi in modo ragionevole sul tronco della rappresentanza parlamentare se ne intendo così il referendum integra la funzione legislativa posso anche intenderlo alla radicale invece come strumento di decisione diretta e alternativa a quella parlamentare espressione attraverso il comitato promotore di un pluralismo sociale costituzionalmente garantito così inteso il referendum è in concorrenza con la funzione legislativa ma in ambi i casi democrazia diretta e democrazia rappresentativa coesistono non sono incompatibili se manca la democrazia rappresentativa non c'è spazio nemmeno per il referendum questo lo si vede politicamente quando l'iniziativa referendaria mira a abrogare una legge non condivisa a rimediare a uno scollamento fra rappresentanti e rappresentati oppure quando attraverso un quesito manipolativo il referendum veicola una normativa che le camere non approvano a colmare la distanza fra norma vigente e fatto sociale in entrambe le ipotesi per come la vedo io l'iniziativa referendaria non è un'aggressione all'istituzione parlamentare semmai è l'esito della sua debolezza ma lo si vede anche giuridicamente come argomenterò a breve l'articolo 75 della costituzione quale norma di riconoscimento del referendum presuppone la permanente potestà legislativa parlamentare sulla materia oggetto del referendum che le camere possono esercitare prima durante e fin dopo l'accoglimento della proposta referendaria al tempo stesso quello stesso articolo 75 garantisce lo vedremo sia l'esercizio del voto referendario sia il suo effetto utile in questo contesto diventa facile capire cosa sia realmente il referendum abbrocchitivo popolare non è un uccase dotato di plusvalenza democratica perché espressione diretta del popolo sovrano non è nemmeno all'opposto una mera consultazione del corpo elettorale per vedere per ricevere un generico indirizzo politico e men che meno è uno stimolo alla produzione legislativa delle camere che ho sempre trovato curioso tic linguistico che scambia un quesito referendario per il confetto falqui giuridicamente il referendum è una vera e propria fonte del diritto che abrogando in tutto o in parte un testo della legge innova l'ordinamento indipendentemente dalla volontà del governo e del Parlamento dunque coesistenza tra legge e referendum tra legge e legge parlamentare e abrogazione popolare e dalla coesistenza tra legge e referendum scaturisce una relazione tra i due che è necessariamente dialettica e che spiega le peculiarità del rapporto fra queste due fonti essendo entrambi atti normativi pari ordinati perché sia la legge sia il referendum hanno forza di legge le loro relazioni dovrebbero essere come diciamo i giuristi governate dal criterio cronologico l'ex posterior abrogat leggem priorem cioè nel contrasto tra legge e referendum prevale la fonte più recente abrogando la precedente ma non è così il rapporto tra legge e referendum presenta significative assimmetrie da qui la dialettica dei due strumenti ecco la prima simmetria si può abrogare qualsiasi legge attraverso il referendum la risposta è negativa l'articolo 75 esplicita o incapsula una serie di atti normativi sottratti all'abrogazione popolare però sono leggi specifiche non materie generiche sono leggi da interpretarsi restrittivamente perché ogni limite in più imposto allo svolgimento referendario altro non sarebbe che un limite al diritto di voto e così da un lato il referendum non può tutto ma all'intendo del suo perimetro costituzionale il referendum è la regola la sua inammissibilità l'eccezione rapporto dialettico seconda simmetria sotto il profilo della successione nel tempo la legge referendaria la numero 352 del 70 citerò più volte durante questa relazione prevede in un articolo l'articolo 39 che le operazioni referendarie non hanno più corso se prima del voto popolare la norma oggetto del quesito è abrogata dal Parlamento nessun problema se la legge abroga integralmente quell'oggetto del referendum non si uccide due volte un uomo morto non si può abrogare una seconda volta per via referendaria una legge che il Parlamento ha già abrogato ma che succede se il Parlamento non si limita ad abrogare la legge oggetto del referendum ma introduce una nuova disciplina e qui viene richiesto al Parlamento un intervento particolare l'intervento legislativo sopravvenuto deve essere dice la Corte Costituzionale autenticamente innovativo deve cioè modificare i principi ispiratori e i contenuti normativi essenziali della disciplina oggetto del referendum diversamente se si tratta di una mera cosmese legislativa il referendum si svolge comunque sulla nuova legge in base a un quesito che verrà riformulato dall'ufficio centrale del referendum dunque scopriamo che se un quesito referendario è chiesto ed è dichiarato ammissibile comunque la discrezionalità legislativa è ipotecata terza simmetria qualunque atto di rango legislativo è in grado di interrompere il referendum anche qui la risposta è negativa ci sono alcune fonti il decreto legge la legge di delega la legge di delegificazione che sono inidonee a innovare stabilmente o immediatamente l'ordinamento per cui se il governo fa un decreto legge fonte provvisoria o viene approvata una legge di delega che richiederebbe un successivo intervento del governo o di delegificazione che richiede un intervento successivo del governo il presidente della repubblica non promulga quella legge non emana quel decreto legge l'ufficio centrale del referendum non la applica perché perché sono inidonee a interrompere il procedimento referendario che viene dunque assicurato nel suo svolgimento e ancora quarta simmetria come risolvere le possibili antinomie tra esito referendario e norma costituzionale la produzione continua di norme è sempre fonte di potenziali cortocircuiti con le norme precedenti e l'ordinamento presta ciò dei rimedi l'interpretazione da parte dei giudici l'impugnazione della legge davanti alla corte costituzionale la modifica legislativa sopravvenuta sono tutti rimedi che entrano in gioco nel momento dell'applicazione della legge ma la legge referendaria la 352 del 70 permette addirittura di prevenire antinomie fra l'esito referendario e la costituzione un suo articolo articolo 37,3 consente al capo dello stato su richiesta del governo di ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione referendaria per un termine non superiore a 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti del referendum si concede così altro tempo per approvare una legge o un decreto legge in materia anche quando la volontà abrogativa popolare si è già espressa a favore dell'abrogazione dunque è sempre possibile innestare coerentemente l'esito del referendum nell'ordinamento normativo infine ultima simmetria che vincolo deriva in capo al Parlamento da un voto abrogativo referendario se si vince con il sì nel referendum che cosa ne deriva sulla funzione legislativa successiva nel silenzio della legge la giurisprudenza costituzionale ha escluso le due tesi estreme quella secondo la quale la discrezionalità legislativa sarebbe nulla ovvero sarebbe totale ha riconosciuto invece il divieto di ripristinare la normativa abrogata dalla volontà popolare cito senza che si sia determinato successivamente all'abrogazione al commutamento né del quadro politico né delle circostanze di fatto tale da giustificare un simile effetto dunque un vincolo c'è da parte del referendum sul legislatore ma non è un vincolo permanente è un divieto che comunque opera al fine di impedire che della consultazione popolare venga vanificato l'effetto utile dunque mi scuso per la tecnicalità di questa parte della relazione scopriamo che per costituzione leggere e freno in cui esistono la loro relazione è una relazione dialettica perché come abbiamo visto attraverso queste cinque antinomie il rapporto fra il voto popolare e il voto parlamentare risponde a degli equilibri che cambiano di volta in volta tutto questo sul piano politico istituzionale ha una ricaduta proprio perché legge e referendum coesistono dialetticamente il meccanismo messo in moto dall'iniziativa referendaria è innervato da un principio quello della leale cooperazione tra poteri quello che Roberto Bin chiama il grasso che fa scorrere gli ingranaggi delle relazioni tra i poteri in questo caso potere referendario potere legislativo questo concretamente vuol dire che per un verso il comitato promotore deve esercitare le sue prerogative in forme non sleali ad esempio evitando eccedenze referendarie nel numero di iniziative nella identificazione delle leggi da abrogare nella formulazione dei quesiti per altro verso il Parlamento dovrà evitare di esercitare la potestà legislativa deliberatamente orientandola a ostacolare l'iniziativa legislativa e l'iniziativa referendaria non è andata sempre così e per come la vedo io nella distribuzione delle colpe e delle responsabilità la bilancia pende più dalla parte degli avversari della scheda referendaria i quali nel tempo hanno dato a vita una vera e propria convenzione antireferendaria guardiamola nei suoi elementi costitutivi lo stracismo si è manifestato immediatamente il referendum è stato introdotto dalla Costituzione nel 48 ma il Parlamento approverà la necessaria legge applicativa solo nel 1970 con 22 anni di ritardo quella legge la più volte citata legge 352 del 70 costruisce il procedimento referendario con un percorso a ostacoli introducendovi rigide preclusioni temporali a mio avviso non più giustificate che andrebbero tutte ripensate quali tre mesi consecutivi per raccogliere le 500 mila firme necessarie divieto di richiesta di referendum l'ultimo anno di legislatura e nel semestre successivo alle elezioni blocco e rinvio del referendum di un anno in caso di elezioni anticipate obbligo di votare in una domenica compresa tra il 15 di maggio e il 15 di giugno agevorando così l'abitudine del governo di collocare in date balneari il voto referendario a solleticare l'astensionismo che inficia la consultazione popolare infatti altro ostacolo come sappiamo il referendum è valido solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli eventi diritto articolo 75 comma 4 della costituzione è il quorum strutturale pensato in assemblea costituente per contrastare l'astensione ma che ha finito invece prefavorirla e incentivarla e badate la difficoltà a raggiungere il quorum è accresciuta anche dalla presenza di morti e fantasmi nelle liste degli eventi diritto al voto la cui revisione è solo periodica e spesso sciatta elettori defunti elettori irreperibili come molti italiani residenti all'estero e iscritti all'apposita anagrafe elettorale concorrono così a innalzare l'asticella del quorum alterando l'esito della consultazione referendaria è accaduto nel 1999 quando il referendum abrogativo della quota proporzionale nella legge elettorale della Camera fu invalidato per soli 150.000 voti alla convenzione antireferendaria ha concorso soprattutto la Corte Costituzionale quale giudice di ammissibilità dei quesiti abrogativi attenzione compito che non era scritto in Costituzione compito che è stato aggiunto da una legge costituzionale del 53 a partire dalla famosa sentenza numero 16 del 78 la giurisprudenza referendaria della Corte si è allontanata da una lettura tassativa dei limiti previsti in Costituzione forgiandone di ulteriori in via pretoria e così le sole 5 leggi sottrate abrogazione popolare indicate nel secondo comma dell'articolo 75 si sono moltiplicate esponenzialmente in ragione di criteri inediti variamente interpretabili sempre più sofisticati e numerosi è inevitabile che in una giurisprudenza così caotica ci siano aporie e contraddizioni con il risultato che la Corte Costituzionale oggi può pescare nel masso dei suoi precedenti la carta da giocare indifferentemente pro o contra l'ammissibilità del quesito in esame questo consente alla Corte in sede referendaria di agire come un giudice sottratto alle regole scritte eludendo così e qui cito le parole di Livio Paladin l'onere principale tra quelli gravanti sulla Corte consistente nel realizzare per quanto possibile la prevedibilità delle sue decisioni questa è una situazione che nega lo Stato di diritto perché tra l'altro è priva di rimedio giurisdizionale perché come dice l'articolo 137,3 della Costituzione contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione è un divieto questo che la consulta presidia con severo rigore garantendosi diritto all'ultima parola nell'esercizio di tutte le proprie competenze compresa il giudizio referendario e peraltro se anche i promotori di un quesito bocciato impugnassero la sentenza referendaria arbitraria della potenzione di conflitto e di attribuzioni a giudicare quel conflitto ai sensi della Costituzione sarebbe la Corte Costituzionale iudex in causa propria facile quindi per vederne l'esito infine la Convenzione antireferendaria si è nutrita della condotta delle maggiori forze politiche divise su tutto ma tutte ostili a uno strumento che mette in discussione il ruolo di mediazione politica svuoto dai gruppi parlamentari e del sistema dei partiti da qui i tentativi spesso riusciti di sterilizzare l'appuntamento referendario guardate nelle forme più varie gli scioglimenti anticipati delle Camere come nel 72 nel 76 nel 87 e nel 2008 che fanno solitare di un anno il referendum oppure le adesioni strumentali alle ragioni del sì per diluirne l'effetto politico in caso di vittoria è successo anche questo oppure la scelta governativa partigiana di fissare la data delle consultazioni referendarie in periodo balneare per favorire l'astensione i ripetuti inviti all'astensione per far mancare il quorum di validità il tradimento di alcuni referendum abrogativi di leggi o ministeri ripristinati per legge e infine il silenziatore sull'informazione nelle campagne referendarie quando il conoscere è indispensabile al deliberato questo per veloci tinte è la convenzione antireferendaria post hoc propter hoc i dati numerici nelle consultazioni referendari della prima in 1964 divorzio all'ultima del 22 giugno scorso restituiscono il quadro clinico di un istituto agonizzante e lo ricordate ieri nel mio articolo sull'oriformista le ripeto qui le cifre complessive 666 quesiti annunciati in gazzetta ufficiale 197 effettivamente ripositati in Cassazione 168 arrivati davanti alla Corte Costituzionale 87 messi al voto di cui 15 cessati prima della consultazione referendaria 72 quesiti votati di cui solo 39 hanno raggiunto il quorum di validità e di questi 39 23 hanno visto prevalere sì all'abrogazione a fronte di 16 quesiti bocciati dagli elettori in particolare con la sola eccezione dei quesiti del 2011 ricorderete il referendum di un tema di acqua pubblica nucleare legittimo impedimento nelle ultime tornate referendarie 1997 99 2000 2003 2005 2009 2016 2022 ma era già caduto anche nel 1990 assente prevalso il non voto devo tradurre in prosa queste cifre qualunque referendum su qualunque materia da chiunque promosso oggi è a rischio di fallimento il problema che abbiamo davanti e che oggetto di questo seminario o meglio della prima sessione di questo seminario è come invertire questa parabola una prima soluzione possibile è andare oltre il sistema costituzionale vigente per ripensare il referendum attraverso una nuova razionalizzazione del potere abrogativo popolare è ad esempio la via prospettata da ultimo nel recente volume di Andrea Morrone la Repubblica del referendum edito dal mulino quest'anno dove Andrea Morrone ipotizza referendum preventivi su atti legislativi in corso di approvazione in Parlamento e iniziative popolari propositive su provvedimenti non adottati in Parlamento e cioè iniziative popolari propositive dirette da sottoporre immediatamente al voto popolare o indirette da sottoporre cioè il voto popolare se il Parlamento entro un termine non approva il disegno di legge popolare o se approva una legge che non corrisponde ai principi essenziali dell'iniziativa legislativa popolare è una prospettiva che io non condivido inizioni così massicce di democrazia diretta ovviamente al di là delle migliori intenzioni di chi le propone e di chi le progetta rischiano di essere l'anticamera di ogni populismo antiparlamentare e io lo ripeto preferisco Locke a Russo l'alternativa è secondo me rimanere dentro il disegno costituzionale che prima ho riassunto scogliendo in modo innovativo i principali nodi referendari che diacronicamente ordinati sono questi il problema della fase dell'iniziativa cioè come raccogliere le firme il problema del controllo di ammissibilità e cioè quali criteri la Corte Costituzionale può adottare per l'ammissibilità del referendum e il problema nella fase deliberativa cioè il quorum strutturale di validità vediamo come si possono sciogliere in maniera innovativa questi nodi cominciamo dal primo problema quello attinente alla fase dell'iniziativa legislativa qui la prassi ha anticipato la teoria l'azione ha anticipato il pensiero perché l'esperienza riuscita della raccolta digitale delle sottoscrizioni per i quesiti eutanasia libera 392.000 sottoscrizioni digitali e cannabis legale oltre 566.000 film digitali hanno già sperimentato sul campo la soluzione possibile qui dentro in questo seminario è a tutti nota la genesi parlamentare della firma digitale referendaria frutto di un emendamento presentato dall'onorevole riccardo Maggi che è il mio discassente che quindi è la persona più adatta a ripercorrerla e a describirci anche lo stato dell'arte del suo emendamento mi limito a sottolineare due aspetti decisivi il primo che attiene alla razio di quell'emendamento e la razio era molto semplice sottrarre ai partiti e ai sindacati il monopolio dello strumento referendario restituendo ai cittadini attraverso la mediazione del comitato promotore perché la firma digitale rende davvero diffusa l'iniziativa referendaria in pochi giorni è possibile ottenere quanto in passato richiedeva tre mesi di duro lavoro da parte di migliaia di militanti capilarmente organizzati su tutto il territorio il secondo aspetto decisivo di quell'emendamento è ma già l'ho anticipato prima Marco Perduca ricordare a tutti voi che il ricorso alla firma digitale è un'innovazione procedurale obbligata introdotta a seguito dei rilievi sulle restrizioni che la legge 352 del 70 impone alla partecipazione al procedimento referendario giudicate irragionevoli dal comitato diritti umano dell'ONU dunque la firma digitale è il rimedio non è il problema da risolvere eppure l'innovazione della firma digitale è stata descritta anche da molti autorevoli colleghi come il killer capace di uccidere a colpi di mouse la democrazia liberale rappresentativa un sicario al servizio di una inedita piramidale democrazia digitale totale disintermediazione politica e sociale alla base e massima concentrazione sul vertice istituzionale in breve cito da alcuni colleghi un inaspiramento della torsione populista in atto nel sistema politico ovvero un emendamento che sarebbe una riforma costituzionale a costituzione invariata capite bene che se fosse questa la lettura autentica della firma digitale data la mia premessa ideologica non sarei qui a difendere la firma digitale e quindi tranquillizzo Marco Perduca Filomena Gallo e tutti gli amici dell'associazione Coscioni non è questa la mia posizione e non credo che emergesse dal mio articolo sul riformista non può essere questa la mia posizione perché semili scenari scontano un equivoco di fondo la firma digitale non aumenta le possibilità di riuscita dell'iniziativa referendaria tu puoi raccogliere a colpi di click anche un milione di sottoscrizioni su un quesito ma questo non assicura né che il quesito sarà sottoposto al voto né che uscirà vincente dalle urne collocandosi nella fase iniziale del procedimento referendario la firma digitale si risolve attenzione in un'inedita forma di partecipazione diretta non di democrazia diretta quel quesito per tradursi in decisione politico normativa doveva attraversare diversi semafori solo il primo dei quali diventa verde grazie alla sottoscrizione digitale cioè il controllo di legittimità da parte dell'ufficio centrale della Cassazione ma superato quel semaforo la strada è ancora lunga e l'arrivo al traguardo come abbiamo visto dipende più dal Parlamento che dal comitato promotore dunque vorrei dire a molti colleghi l'iniziativa referendaria sia essa cartacea sia essa digitale non erode né soppianta la centralità parlamentare quanto all'urlato pericolo di una bulimia referendaria in ragione della facilità e della velocità tecnologica nella fase dell'iniziativa beh questo timore è smentito dall'esperienza dell'ultima tornata referendaria abaco alla mano la possibilità di raccolta online delle firme si è rivelato indispensabile sopra un quesito cannabis non è stato determinante per sette quesiti quello sull'entanasia e sei sulla giustizia giusta non ha evitato il fallimento di cinque quesiti il quesito sulla caccia e il quattro sul green pass e non è servito a far decollare il quesito più volte annunciato di un'abrogazione del reddito di cittadinanza aggiungo un altro dato la piattaforma privata utilizzata si chiama raccolta firme gestita da it agile ha ospitato 16 iniziative 12 quesiti referendari e 4 proposte legislative popolari alla data di aprile 2022 complessivamente queste 16 iniziative avevano raccolto digitalmente 1.240.000 firme al netto del quasi milione di firme a favore del referendum cannabis e eutanasia le restanti 14 iniziative complessivamente hanno acquisito in via digitale solo 240.000 firme dunque la tecnologia non basta per assicurare valanghe di sottoscrizione a fare la differenza più che il vettore è il merito dell'iniziativa promossa da un comitato promotore riconoscibile credibile capace di fare rete tra persone e associazioni altri critici della firma digitale hanno preferito andare al sodo paventando il facile successo online di quesiti sovranisti anti-immigrati anti-sociali anti-diritti civili questi conati di antipolitica travestiti da referendum troverebbero nella firma digitale un comodo taxi per arrivare direttamente al corpo elettorale anche qui secondo me si accreditano falsi automatismi coesiti coesiti simili arriveranno alle urne piaccia o meno non perché sottoscritti digitalmente ma perché costituzionalmente ammissibili e perché il Parlamento non li avrà disinescati prima sarà allora nella campagna referendaria che andrà abbandonato il distanziamento sociale della firma digitale per tornare ad agire politicamente nell'agorà pubblica e si badi questo vale soprattutto per il comitato promotore perché una minoranza per quanto capace di raccogliere digitalmente le firme necessarie dovrà poi riuscire nell'impresa non facile di farsi maggioranza nelle urne quanto infine agli orfani dei banchetti refrendari descritti come luogo e momento di dibattito preliminare sul quesito finalizzato l'acquisizione di una sottoscrizione non emotiva ma consapevole a me sembrano malati di una nostalgia esagerata e comunque nulla preclude che le firme siano raccolte secondo modalità miste come accaduto per il quesito eutanasia legale o addirittura sincroniche con banchetti che affianchino i moduli cartacei un tablet per la firma digitale la digitalizzazione delle sottoscrizioni dunque è la soluzione del problema riguardante la fase dell'iniziativa referendaria non è il problema da risolvere ed è schizofrenico che in Parlamento si voti all'unanimità di introdurre la firma digitale e il giorno dopo ci si affretti a avanzare proposte di riforma che ostacolino la firma digitale vale innanzitutto per l'idea di inelzare la soglia costituzionale delle 500.000 firme ufficialmente motivata come adeguamento alle attuali dimensioni del corpo elettorale 50 milioni di elettori oggi a fronte dei 30 milioni del 1948 il ragionamento è questo dobbiamo adeguare il quorum al numero di elettori di oggi e in questo modo compensiamo la facilità della raccolta delle firme digitali è una premessa sbagliata costituzionalmente sbagliata se i costituenti avessero inteso esprimere una proporzione tra sottoscrizioni referendari ed elettori non avrebbero indicato una cifra assoluta 500.000 ma una percentuale come in origine era scritto negli articoli 56 e 57 della costituzione sul numero di deputati e senatori quella soglia delle 500.000 firme in realtà esprime convenzionalmente la serietà della richiesta referendaria a questo serve non ostacolarne l'iniziativa su come raccogliere quelle firme poi la costituzione nulla dice tanto meno che lo si debba fare come ha scritto Giovanni Guzzetta a passo di lumaca aggiungo che se noi prendessimo sul serio l'aggiornamento proposto dovremmo collocare l'asticella da 500.000 firme a 920.000 sottoscrizioni un'enormità poco meno delle firme richieste per l'iniziativa legislativa popolare europea un milione a fronte però di 450 milioni di cittadini comunitari soglia quella di un milione raggiunta nel nostro continente in dieci anni solo sei volte è stato anche proposto di anticipare il giudizio di ammissibilità del quesito in un momento in cui entro il primo mese di raccolta le firme siano almeno 100.000 non più di 120.000 si eviterebbero così leggo della relazione del disegno di legge presentato da Stefano Ceccanti atto camera 300 3284 si eviterebbero così possibili frustrazioni per le centinaia di migliaia di firmatari consentendo alla consulta di pronunciarsi con serenità anche qui la premessa mi sembra errata la corte è chiamata a giudicare secondo costituzione e le sue decisioni non sono una variabile dipendente dal numero di firme raccolte le critiche mosse alle sentenze della corte non si appuntano sul loro esito ma sulla loro imprevedibilità dovuto alla giurisprudenza caotica laberintica contraddittoria aggiungo che superato il controllo dell'ufficio centrale del referendum le 100.000 firme basterebbero per elevare prematuramente una ridotta falange di sottoscrittori a vero e proprio potere dello Stato e infine si moltiplicherebbero oltre il necessario interventi della consulta chiamata a pronunciarsi su quesiti magari del tutto velitari quanto all'idea prospettata in dottrina di fare dell'anticipato giudizio di ammissibilità la sede per una negoziazione tra corte costituzionale e comitato promotore sulla più corretta formulazione del quesito senza che ciò a zero le firme già raccolte manifesto ugualmente il mio dissenso perché devo essere coerente alle mie premesse di questa relazione se il referendum è come costituzionalmente è una fonte del diritto non è concepibile una concertazione sul suo atto genetico l'iniziativa referendaria è popolare dice l'articolo 65 della costituzione e alla consulta non può essere attribuito il ruolo di collegillatore enfatizzando nell'anima politica deleteria a detrimento di quella giurisdizionale che l'è più propria a mio avviso il vero rischio connesso alla digitalizzazione dell'iniziativa referendaria è un altro squisitamente politico istituzionale lo sintetizzo così e lo spiego l'uso della scheda referendaria in chiave plebiscitaria la storia italiana ha già conosciuto l'uso partitocratico dello strumento referendario gli abbiamo fatto esperienza tutte le volte che un referendum è stato promosso da grandi forze politiche che siedono in Parlamento o addirittura nel governo è accaduto anche con gli ultimi presidi sulla giustizia giusta a egemonia leghista la digitalizzazione ne renderebbe possibile una variante ancor più perniciosa quale quella di un automatismo referendario all'indomani della pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge approvata dal Parlamento su iniziativa delle forze politiche uscite vincitrici o sconfitte in Parlamento le prime per plebiscitare quella legge le seconde per contrapporre alla Camera alle Camere il popolo sovrano in ambo i casi il referendum si trasformerebbe in un pezzo del gioco politico-partitico nelle mani di chi già ha facoltà e potere di intervento nelle decisioni parlamentari mentre l'autentico referendum è quello che muove dal basso dalla società questo è lo scenario che pavento ripetute istantanee iniziative referendarie top-down e non bottom-up come invece sarebbe costituzionalmente più coerente una versione 2.0 del pericolo che la Corte Costituzionale segnalò già nella sentenza 16 del 78 cito che il referendum si trasformi in un distorto strumento di democrazia rappresentativa mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia a questa potenziale deriva sarebbe semplicissimo oppure rimedio basterebbe un argine legislativo basterebbe prevedere un periodo biennale o triennale di vigenza della legge approvata dal Parlamento a partire della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale durante il quale sia vietata la sua abrogazione referendaria perché c'è un tempo per ogni cosa e spesso a rimedio di una nuova legge tecnicamente scadente o addirittura incostituzionale possono rivelarsi sufficienti e più tempestivi il rimedio dell'interpretazione costituzionalmente corretta da parte dei giudici o dell'impugnazione di quella legge davanti alla Corte Costituzionale è una storia che conosciamo in passato molte delle leggi ad personam di Berlusconiana a memoria in materia di erogatori internazionali di legittimo sospetto di sospensione dei procedimenti nei confronti delle alte cariche dello Stato di legittimo impedimento furono fatte oggetto subito di inutili iniziative referendarie che poi non si sviluossero mai perché il problema fu risolto o per via di interpretazione di un rispudenziale o perché la Corte dichiarò illegittime quelle leggi per incidenza brevissima parentesi a evitare un uso partitocratico del referendum sarebbe il caso anche di ripensare a quella previsione costituzionale che riconosce un'iniziativa referendaria non solo a 500.000 elettori ma anche a 5 consigli regionali badate che possono chiedere abrogazione di leggi che anche non hanno nulla a che vedere con le loro competenze costituzionali con il risultato andato in scena anche nella imbarazzante vicenda dei referendum sulla giustizia giusta nati popolari e finiti regionali di risultare la scorciatoia ideale per un uso partitico dello strumento referendario chiuso la parentesi e con questo ho identificato le possibili soluzioni al primo nodo quella relativa alla fase dell'iniziativa lo so che non ho tempi accademici ma l'accordo è che è un seminario di lavoro in maniche arrotolate di camicia quindi posso usare più della mezz'ora di tempo che di solito si usa per queste relazioni rientra nelle regole di ingaggio veniamo al secondo problema al secondo nodo quello che si palesa nella fase del controllo di ammissibilità lo attestano le cifre che già citavo prima dal 1970 ad oggi i quesiti sottoposti al giudizio della corte si contano in 163 saromonicamente 83 sono stati promossi 80 bocciati è la regola che in area radicale si dice del 50-50 colpa dell'incapacità dei promotori a formulare quesiti costituzionalmente corretti verrebbe da pensare e da dire come ha fatto il presidente Amato nella sua discussa conferenza stampa del 16 febbraio scorso ma non è così le cause vanno ricercate come ho già detto prima nella scelta giurisprudenziale della corte di misurare il referendum con criteri di ammissibilità ulteriori che la consulta progressivamente in autonomia creato ex nihilo da questo punto di vista i problemi emergenti dalle decisioni referendarie pronunciate il 16 febbraio scorso sono tre il primo la difficoltà oserei dire quasi l'impossibilità ormai di distinguere fra referendum manipolativo inammissibile e referendum parziale ammissibile che è costato la bocciatura del referendum sulla responsabilità civile dei magistrati sentenza 49 del 2022 la seconda la metamorfosi del giudizio di ammissibilità del quesito in un sindacato anticipato di costituzionalità sugli esiti del referendum che è costato la bocciatura del referendum sull'eutanasia legale il terzo il divieto di abrogazione popolare di nome correlate a obblighi internazionali i pattizi che è costato la bocciatura del referendum sulla cannabis sentenza 51 del 2022 tra questi tre problemi è il secondo a meritare particolare attenzione perché rispetto agli altri due è pericolosamente pervasivo e perché mentre per gli altri due si può discutere della problematicità dell'applicazione di un criterio di ammissibilità qui invece la corte ha veramente esercitato uno sviamento funzionale del proprio ruolo la faccio breve su questo punto giudizio di ammissibilità del referendum e sindacato di costituzionalità su una legge sono due competenze diverse hanno finalità non sovrapponibili sono governate da scadenze temporali e regole processuali differenti badate anche quanto a flessibilità delle relative decisioni perché se sindacando la costituzionalità una legge la corte ha un ventaglio di strumenti decisori pensate a quello che si è inventato nel caso cappato l'incostituzionalità di chiare a certapa ma differita nel giudizio di ammissibilità la corte deve ragionare in termini binari o è ammissibile o non è ammissibile il quesito se preso sul serio le fonti che disciplinano le competenze della corte costituzionale non le assegnano un sindacato prematuro e astratto direi quasi profetico su una normativa di risulta referendaria che potrebbe anche non vedere mai la luce mentre il giudizio di costituzionalità non ha un oggetto ipotetico si svolge sempre su una legge in vigore valutata peraltro alla luce del suo significato applicato tutte cose che non ci sono in giudizio anticipato referendario torna qui utile di nuovo la coesistenza dialettica tra legge e referendum la torsione la metamorfosi del giudizio di ammissibilità del quesito in sindacato anticipato di costituzionalità dei suoi esiti normativi finisce per far pagare al referendum colpe altrui dato che l'iniziativa referendaria ha stretto rigore giuridico non è mai in grado di produrre una situazione incostituzionale ed è facile dimostrarlo quanto al passato l'abrogazione popolare non incide sui rapporti pregressi alla delibera referendare perché il referendum vale solo per il futuro e quanto al futuro abbiamo già visto che l'efficacia abrogativa referendaria è condizionata alla pubblicazione di un decreto del presidente della repubblica che può essere postergato su richiesta del governo consentendo così al legislatore di provvedere altrimenti dunque il referendum in sé e per sé non è in grado di violare direttamente e immediatamente la costituzione quel pregiudizio totale a un precetto costituzionale che la corte ha contestato al quesito sull'eutanasia legale è sbagliato anche qui una minima modifica legislativa della legge 35270 potrebbe sdramatizzare il problema se il timore è che il referendum produca un effetto incostituzionale allora si faccia una modifica all'articolo 37,3 della legge 35270 allungando la sospensione che può essere chiesa dal governo al capo dello Stato da 60 giorni a ipotesi 120 giorni in modo da dare un fazzoletto di tempo più ampio perché il legislatore con legge o il governo con decreto legge possa evitare che l'esito referendario produca un effetto incostituzionale non condivido invece ma per nulla la proposta avanzata in dottrina di una modifica che introduca nella legge 352 del 70 un generalizzato effetto sospensivo dell'agribrogazione referendaria fino a quando il Parlamento non avrà approvato una nuova legge contando sul vincolo politico che il voto referendario avrebbe sul Parlamento obbligato politicamente a introdurre una nuova legge non posso condividere questa proposta perché mina la forza propulsiva del referendum che è essere una fonte del diritto la quale se il Parlamento non interviene prima del voto abroga innova con efficacia vincolante per tutti e verso il futuro dunque il timore di anomie o antinomie incostituzionali che la Corte ha giocato per bocciare il referendum a mio avviso invece giocano per un intervento legislativo che è sempre possibile non contro l'ammissibilità del referendum in chiave di politica del diritto bocciare un referendum perché si teme che il suo effetto produca violazioni della Costituzione significa da parte della Corte Costituzionale esprimere una assoluta e preconcetta sfiducia nei confronti di tutti gli altri attori del procedimento referendario governo capo dello Stato Parlamento una plateale smentita della cogenza di quel principio di reale collaborazione che dovrebbe innervare il procedimento referendario ivi compreso il giudizio di ammissibilità della Corte come restringere l'arbitraria discrezionalità delle decisioni sui singoli quesiti referendari da parte della Corte come costringere la Corte ad entrare nei binari delle sue competenze costituzionali lo dico apertamente so di essere in minoranza ma lo devo motivare a questo fine non serve nulla modificare la legge 352 del 70 perché è una legge ordinaria mentre le competenze della Corte Costituzionale in sede di giudizio di ammissibilità hanno una disciplina di rango costituzionale ma non serverebbe nemmeno modificare la norma costituzionale guardate che già oggi l'articolo 2 della legge costituzionale del 53 che attribuisce la Corte di giudizio di ammissibilità ha una formulazione stringente sentite come suona spetta la Corte Costituzionale giudicale se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'articolo 75 della Costituzione sono ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso cioè la Fonte Costituzionale dice tu devi usare solo quell'elenco esplicito di 5 leggi indicate nel secondo comma ma questa norma dice la Corte fin dal 78 contiene cause inespresse di inammissibilità ricavabili per via interpretativa dal disegno costituzionale a integrazione dell'ipotesi che la Corte espressamente esclude che la Corte espressamente esclude dal voto referendale quindi se noi modificassimo l'articolo 75 della Costituzione la Corte comunque potrebbe reinterpretarlo in maniera largheggiata ecco perché la mia prospettiva è un'altra chi ha minato la prevedibilità delle decisioni referendare la Corte Costituzionale tocca dunque alla Corte sminare il problema ricaribrando il proprio ruolo all'interno del procedimento referendario che è solo un segmento di quel procedimento non è l'armageddon finale potrà farlo innanzitutto spogliandosi del controllo sulla completezza del quesito sulla formulazione sulla natura dell'atto normativo oggetto del referendum perché sono limiti modali della richiesta abrogativa che vanno controllati dall'ufficio centrale del referendum non sono vizi di contenuto del referendum che spettano alla Corte e vi ricordo che le decisioni dell'ufficio centrale sono impugnabili in serie di conflitto di attribuzione la Corte dovrà abbandonare i criteri di giudizio connessi ai possibili effetti normativi del voto abrogativo fin qui adoperati come scamotage per mascherare un sindacato di costituzionalità anticipato e infine andrà tolto ogni alibi al legislatore che durante tutto il procedimento e oltre resta titolare della funzione legislativa del suo tempestivo esercizio l'inerzia legislativa non può giustificare supplenze da parte della Corte chiamata a bocciare quesiti per disarmonia e inconduità discendenti dalla loro approvozione a ciascuno il suo per citare Leonardo Sciascia spetterà il Parlamento prevenire il voto popolare o modellarne l'esito coordinandolo al meglio con le norme preesistenti ora lo so che fare affidamento sulla esificienza dei giudici che siedono a parte della consulta sembra un'ingenua pazzia ma vi assicuro che chi vi parla è un finto o matto sono convinto che sia nell'interesse della Corte Costituzionale correggere nel senso che ho prospettato i suoi comportamenti ed è presto detto il perché a ogni tornante refrendario lo abbiamo visto nel febbraio scorso la Corte Costituzionale emette a rischio la propria legittimazione perché i giudizi refrendari vengono accusati di essere giudizi politici e mettendo a rischio la propria legittimazione mette a rischio la condizione di efficacia della sua giurisdizione la Corte non dispone di un apparato coercitivo per dare esecuzione alle sue sentenze dunque necessita di un consenso diffuso attorno al proprio ruolo e alla propria azione ne ha bisogno come l'acqua per i pesci privata di questa legittimazione da funzione si ritroverebbe stretta tra l'abbraccio mortale della politica e la progressiva marginalità istituzionale meglio molto meglio a palazzo della consulta correre ai ripari in passato è già accaduto per orientamenti della giurisprudenza costituzionale ugualmente consolidati e cruciali non faccio esempi per non rubare troppo tempo farlo anche in materia referendaria sarebbe da parte dei giudici costituzionali una prova a un tempo di lungimiranza e di altruismo interessato perché se non lo fanno loro interverrà prima o poi un vincolo etero imposto dal legislatore magari costituzionale 5 minuti mi bastano per finire l'ultimo nodo da sciogliere dopo quello che riguarda la fase di iniziativa e la fase di giudizio di omissibilità è la fase deliberativa ed è il problema dei quorum strutturale di validità l'ho già detto negli ultimi 25 anni con la sola eccezione della tornata referendaria del 2011 la partecipazione all'unione referendaria non ha mai raggiunto il 50% più uno degli aventi diritto al voto evito di darvi le percentuali vi segnalo solo che l'ultima tornata referendaria è stata la meno partecipata di tutte con un'oscillazione fra il 20,4% e il 20,41% a seconda dell'inquisito al netto delle ragioni politiche che possono spiegare queste percentuali a me interese il dato strutturale che è questo la previsione di un quorum strutturale di validità altera la parità delle armi tra favorevoli e contrari all'abrogazione perché consente ai contrari di sommare ai no un fisiologico astensionismo altrimenti immotivato che ormai cronicamente attestato fra il 20,30 forse anche di più per cento del corpo elettorale se rapportato al trend decrescente di affluenza alle urne dal 1948 ad oggi allo stato attuale un quesito referendario abrogativo è valido solo se riesce a raccogliere il consenso favorevole di oltre il 65% degli elettori che solitamente partecipano alle elezioni politiche come risolvere questo nodo un modo è tagliarlo gordinamente e cioè eliminando il quorum strutturale guardate che costituzionalmente questo quorum non si giustifica la manualistica costituzionale aduce a giustificazione del quorum strutturale la simmetria tra due articoli l'articolo 64,3 della costituzione a tenere del quale una deliberazione in uno dei due rami del Parlamento dove essere assunta maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e l'articolo 65,4 che richiede la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nel referendum ma così si dimentica che nel referendum ogni elettore esprime la propria volontà direttamente senza la mediazione di una rappresentanza politica che essa sola richiede una legittimazione strutturale dell'organo deliberativo lo dico in maniera più semplice il quorum di partecipazione al voto refrendario della metà più uno degli aventi diritto al voto è un'applicazione della logica rappresentativa a una vicenda che appartiene alla sfera della democrazia diretta è un irco cervo è confondere una regola necessaria in una democrazia rappresentativa che l'ordono sia legittimato dal numero della maggioranza assoluta dei partecipanti a una vicenda al referendum dove ciascuno vota secondo la propria testa ecco perché negli altri ordinamenti non esiste un quorum strutturale di valentà per il referendum se questa proposta di tagliare coordinamente il nodo è considerata magari giustificata ma politicamente improponibile allora c'è una seconda soluzione modificare il quorum attuale ricalcolandolo sulla base del numero di elettori attivi non il 50% più uno degli aventi diritto al voto ma il 50% più uno dei votanti nelle ultime consultazioni politiche generali guardate che questa soluzione è stata adottata da alcuni statuti regionali primo tra tutti lo statuto della regione toscana con riferimento ai referendum abrogativi di leggi regionali impugnata con la norma statutaria la corte costituzionale sentenza 372 del 2004 ha salvato questo quorum con queste argomentazioni cito non appare irragionevole in un quadro di rilevante estensionismo elettorale stabile un quorum strutturale non rigido ma flessibile che si adegui ai vari flussi elettorali avendo come parametro la partecipazione del corpo elettorale alle ultime elezioni del consiglio regionale cui atti appunto costituiscono oggetto della consultazione referendaria vale in ambito regionale non vedo perché non possa valere in ambito nazionale chiudo al di là delle proposte di dettaglio le linee guida che propongo sono dunque tre implementare la firma digitale dando attuazione e realizzazione alla piattaforma pubblica prevista dalla legge di bilancio 2021 premere sulla corte costituzionale per una rinnovata razionalizzazione della sua giurisprudenza referendaria rimodulare l'articolo 75,4 della costituzione laddove prevede un quorum strutturale ingiustificato e comunque anacronistico questo a mio avviso è il catalogo delle cose più urgenti da incardinare e da ottenere per restituire agibilità allo strumento referendario sarà così possibile salvare il referendum per rivitalizzare la democrazia rappresentativa salvare il referendum per rivitalizzare la democrazia rappresentativa che è il refrain di questa mia relazione ma che era anche il titolo del seminario svoltosi alla Camera dei Deputati c'era anche Marco Perduca c'era anche Salvatore Curreri organizzato il 18 luglio scorso su iniziativa di Riccardo Maggi prima tappa di una riflessione corale che oggi qui a Treppo Carnico dove è rispuntato il sole trova la sua prosecuzione e così moro geometrico il cerchio si chiude perfettamente grazie grazie molto e ora è la volta di Riccardo Maggi come discussant non so se ci sono mi sentite ah allora io perfetto grazie intanto un saluto a tutti voi e mi dispiace davvero non essere lì con voi presente ovviamente ci sono degli impegni di campagna elettorale ma non solo altre anche altre questioni anche più importanti della campagna elettorale di cui che sto seguendo insomma negli ultimi giorni nelle ultime settimane anche a causa della distanza e del collegamento a distanza io proverò ad essere sintetico e ho suddiviso la mia breve relazione in dialogo con la bella relazione del professor Pugiotto in sei punti che sono che corrispondono più o meno ai sei punti che lui ha trattato il primo punto riguarda un aspetto che apparentemente può sembrare uno sconfinamento nell'oggetto di una delle relazioni successive ma in realtà ci aiuta a comprendere quanto sia necessario questo intervento di salvataggio del referendum per rivitalizzare la democrazia rappresentativa e cioè vi voglio sottoporre una breve riflessione su la crisi dei corpi intermedi di rappresentanza politica in particolare dei partiti ma anche del Parlamento per rendersene conto basti prendere in considerazione alcuni dati il numero degli iscritti ai partiti oggi è un ottavo di 70 anni fa a titolo esemplificativo il piccino il 46 contava circa due milioni e mezzo di iscritti il PD nel 2020 ha di poco superato i 400 mila l'astenzionismo è aumentato senza sosta dagli anni 50 nel 48 la percentuale dei votanti ammontava al 92% nel 94 all'86 nel 2018 al 73 le donazioni economiche private ai partiti nel 2013 sono state complessivamente 38,45 milioni di euro da persone fisiche e di 2,46 milioni da persone giuridiche nel 2018 le prime hanno registrato una flessione del 38% le seconde del 67% infine secondo il rapporto Demos del 2020 relativo alla fiducia degli italiani nelle istituzioni i partiti si collocano all'ultimo posto dietro tra gli altri alle forze dell'ordine al comune alla chiesa all'unione europea alla magistratura ai sindacati alle banche e al parlamento ecco che specularmente il successo delle campagne di raccolta firme delle recenti iniziative referendarie alle quali molti dei presenti hanno contribuito eutanasia legale e cannabis e la rapidità con cui in entrambi i casi è stata raggiunta e ampiamente superata la quota di mezzo milione di firme permetterebbero di ipotizzare che ad una evidente crisi dei corpi intermedi di rappresentanza non corrisponde una crisi della partecipazione democratica la risposta si è rivelata estremamente positiva peraltro anche e soprattutto in una fascia di elettori che è tra le più diffidenti nei confronti dei partiti e della democrazia elettiva circa la metà dei firmatari del referendum cannabis a meno di 25 anni circa la metà degli elettori under 25 non ha votato alle ultime elezioni politiche ed europee alla luce di questi dati la necessità di lavorare sugli strumenti di partecipazione politica tesi come strumenti di partecipazione popolare e come hanno opportunamente segnalato Franco Corleone e il professor Pugiotto su una nuova agenda della democrazia che serva anzitutto a rivitalizzarla risulta evidente ma per coniugare vantaggiosamente l'esercizio della funzione legislativa in Parlamento nell'ambito della quale i partiti svolgono un ruolo centrale e determinante con l'istituto referenzario in quali circostanze e eventualmente su quali materie è opportuno ricorrere allo strumento abrogativo? punto 2 posto che come sostenuto dal professor Pugiotto tra uno strumento di democrazia diretta o di democrazia partecipativa diciamo meglio e la democrazia rappresentativa può e deve esserci coesistenza e non incompatibilità ricordo che nella seconda sottocommissione della commissione per la costituzione in un noto intervento del 3 settembre del 46 nella discussione generale sull'organizzazione costituzionale dello Stato l'onorevole Mortati nella sua relazione riteneva che l'intervento popolare di ricorso all'istituto referendario la cui portata uscirà decisamente ridotta dal seguito dei lavori dell'assemblea costituente avrebbe potuto svolgere una funzione equilibratrice anzitutto con l'effetto di promuovere l'educazione politica del popolo predisponendolo a queste consultazioni e quindi promuovendo una certa è una citazione idoneità vantaggiosa alla progressiva elevazione dell'attitudine politica popolare nell'apprezzamento dei programmi politici quindi un legame strettissimo con la capacità e lo sviluppo della capacità di apprezzamento dei programmi politici e quindi anche dei programmi partitici un altro effetto utile ad avviso di mortati sarebbe stato quello di influire proprio sui partiti di costringerli di nuovo una citazione ad un maggiore contatto col popolo per problemi concreti con un temperamento di quella che si è chiamata l'onnipotenza dei partiti quanto al tema di una possibile plusvalenza democratica del referendum sulla legge ordinaria soltanto citata dal professor Pugiotto al di là della discussione dottrinale che ha avuto ed ha come oggetto la particolare forza passiva del referendum che anche la giurisprudenza costituzionale in alcune pronunce sembrerebbe avermi riconosciuto ciò che conta e che voglio sottolineare è che questa discussione non ha mai interessato né raggiunto il legislatore parlamentare che in diverse occasioni è intervenuto per reintrodurre norme abrogate con leggi ordinari anche a distanza di poco tempo da un'abrogazione tra gli esempi più evidenti ricordato anche dal professor Pertici nel manuale il giudice delle leggi vi è il caso del Ministero dell'Agricoltura abrogato per via referendaria nel 1993 e tuttavia mantenuto dal governo Ciampi insediatosi all'indomani del referendum con un parziale riassetto di competenze punto 3 quanto alla convenzione antireferendaria citata dal professor Pugiotto in verità questa tendenza del legislatore ordinario ma anche costituzionale ad ostacolare l'attuazione dell'istituto referendario si è resa evidente anche prima dell'approvazione estremamente tardiva della legge 352 del 70 si pensi a questo proposito che il costituente del 48 non aveva nemmeno immaginato una fase di vero e proprio giudizio di ammissibilità del referendum né tantomeno lo aveva affidato in capo alla Corte Costituzionale la competenza aveva affidato in capo alla competenza del giudizio di ammissibilità in capo alla Corte Costituzionale è stata aggiunta a quelle originariamente previste dall'articolo 134 della Costituzione ad opera come noto della legge costituzionale numero 1 del 1953 mentre prima della sua entrata in vigore il confronto tra l'oggetto del quesito referendario e i limiti di cui al secondo comma dell'articolo 75 avrebbe potuto ritenersi riconducibile a un controllo di mera legalità formale non dissimile da quello esercitato dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione delle leggi alla base di questo istruzionismo di maggioranza l'espressione è di Calamandrei nei confronti dell'istituto referendario vi erano anche ragioni prettamente politiche che peraltro in parte coincidevano con quelle per cui in precedenza era stata ostacolata l'entrata in funzione della Corte Costituzionale stessa tra le altre i governi democristiani volevano impedire che fosse smantellato con sentenze di illegittimità costituzionali o con abrogazioni referendarie il testo unico sulla legge di pubblica sicurezza la legge ordinaria del 70 come noto fu sbloccata soltanto nel momento in cui paradossalmente la DC stessa ritene di confidare la possibilità di utilizzare il meccanismo referendario per abrogare la legge che nello stesso anno introdusse in Italia l'istituto del divorzio la legge che come già ricordato dal professor Pugiotto introdusse nuove ipotesi di blocco dell'iniziativa referendaria con le previsioni degli articoli 31 e 39 tra 31 e 39 affidati al nuovo organo contestualmente istituito dell'ufficio centrale per il referendum presso la corte di Cassazione si pensi in particolare all'articolo 39 che introduceva un'ipotesi di blocco dell'iniziativa referendaria sostanzialmente in capo al legislatore parlamentare prevedendo che se prima della data dello svolgimento del referendum la legge l'atto avente forza di legge o le singole disposizioni di esse su cui il referendum si riferisce siano stati abrogati l'ufficio centrale dichiara che le operazioni relative non hanno più corso su questo c'è voluto una pronuncia di parziale illegittimità costituzionale la 68 del 78 per chiarire che se l'abrogazione parlamentare è seguita dall'introduzione di una nuova disciplina che non modifica i principi ispiratori né i contenuti essenziali della normativa preesistente il referendum si effettua sulle nuove disposizioni normative punto 4 sempre nell'ambito degli ostacoli extra costituzionali al referendum a tutti questi nuovi ostacoli introdotti dal legislatore parallelamente a partire dalla nota sentenza numero 16 del 1978 e con successiva giurisprudenza la corte costituzionale si trovò ad essere artefice di una ulteriore ampia limitazione della portata dello strumento referendario da un lato desumendo come è stato detto per via interpretativa una serie di limiti da quelli espressamente previsti dal secondo comma dell'articolo 75 dall'altro stabilendone altri cosiddetti impliciti si pensi tra gli altri al limite delle leggi di autorizzazione alla retifica dei trattati internazionali esteso dapprima alle leggi di esecuzione e poi anche a tutte le altre produttive di effetti strettamente collegati all'ambito di operatività dei trattati medesimi invocato dalla consulta per decidere l'inammissibilità di 3 su 4 proposte di referendum in materia di sostanze stupefacenti con sentenze la 30 del 1981 la 27 del 1997 e da ultima purtroppo la 51 del 2022 oppure al limite implicito rappresentato dalle leggi costituzionalmente necessarie e da quelle a contenuto costituzionalmente vincolato che avrebbe determinato l'inammissibilità del recente quesito relativo all'articolo 579 del codice penale in materia di omicidio del consensiente in quanto ad avviso della corte nel caso di esito positivo del referendum sarebbe venuta a meno la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana in generale e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili e ancora sempre con riferimento al limite delle leggi costituzionalmente necessarie ma in questo caso anche ai limiti relativi alle modalità di formulazione del quesito alla giurisprudenza sull'ammissibilità dei referendum in materia elettorale si è trattato di una giurisprudenza che ha interpretato i limiti di cui all'articolo 75 in maniera estremamente estensiva che è esattamente l'opposto di quanto anche secondo il professor Massimo Luciani come ha scritto nel commentario della costituzione andrebbe fatto in virtù del principio del favor liberatis allora qui avevo previsto una lunga situazione ma non ve la farò tutta però una parte secondo me è utile utilizzarla e condividerla scriveva Luciani in primo luogo si trascura in genere che il referendum produce i propri risultati grazie alla manifestazione di un diritto politico dei cittadini l'articolo 48 della costituzione assiste delle proprie garanzie tutte le forme di manifestazione della volontà popolare attraverso il voto e tra queste vi è anche quella referendaria ogni limite imposto allo svolgimento del referendum pertanto altro non è che un limite al diritto di voto l'interpretazione restrittiva dei limiti conseguentemente è suggerita dal principio del favor libertatis connesso anche all'articolo 2 della costituzione e discende dai principi comuni il secondo fondamento del principio del favor va rintracciato nel disegno complessivo della forma di governo e di stato tracciato dai costituzioni se l'albero della democrazia si compone in costituzione di un tronco rappresentativo sul quale si innestano alcuni rami partecipativi e se di questi rami il più frondoso è proprio il referendum abrogativo non perché sia più importante del referendum costituzionale ma semplicemente perché è facoltizzato a intervenire con ben maggiore regolarità e frequenza un'interpretazione eccessivamente sfavorevole dei limiti stabiliti in costituzione altererebbe il complesso sistema di pesi e contrappesi pensato per regolare i rapporti tra principio rappresentativo e principio della partecipazione popolare un danno davvero davvero grosso davvero pesante e uno squilibrio notevole cioè all'interno del disegno complessivo della forma di governo e di stato tracciato dai costituenti punto 5 la firma digitale il ministro Colao in Parlamento ha di recente annunciato rispondendo a una mia interrogazione nella quale chiedevo e chiedevamo una interrogazione formulata con il contributo di molti dei presenti con i quali abbiamo condotto diciamo questa iniziativa che ha attraversato più di un anno e mezzo dell'ultima fase della legislatura annunciava Colao che la piattaforma pubblica che ai sensi della legge di bilancio approvata a dicembre 2020 avrebbe dovuto entrare in funzione entro il primo gennaio 2022 non consentirebbe di autenticare né di certificare le firme che dunque non avranno alcun valore o utilità per la presentazione di referendum e proposte di legge di iniziativa popolare cioè a quasi un anno dalla sua adozione la riforma che ha permesso la firma digitale su referendum e iniziative popolari rischia quindi di vedere del tutto vanificata la propria efficacia in particolare così ha risposto il ministro Colao il dettato normativo garantisce solo la digitalizzazione della raccolta delle firme che è il segmento iniziale del processo di promozione dell'iniziativa ma non consente una completa digitalizzazione estesa per esempio all'autenticazione delle firme o alla raccolta dei certificati elettorali che sono disciplinati ancora in maniera analogica questo è il virgolettato di quella risposta davanti al Parlamento del ministro Colao attualmente infatti ricordo che è in vigore una norma soltanto transitoria che consente la raccolta delle firme attraverso piattaforme private che però hanno costi del tutto a carico dei comitati promotori pari a circa un euro a firma se per quanto concerne l'autenticazione è la legge stessa a chiarire che le firme digitali non sono soggette a questo processo per via analogica articolo 344 della legge 178 cioè la legge di conversione del decreto semplificazione del 2020 riguardo la certificazione vi sono anche dichiarazioni pubbliche del ministro Colao che nella scorsa estate assicurava la presa in carico di questo passaggio burocratico attraverso la piattaforma le dichiarazioni del ministro rappresentano pertanto un'anticipazione di un passo indietro rispetto a quanto è stato già possibile fare attraverso le piattaforme private dove era garantita l'autenticazione della firma con speed oltre che un preannuncio di un decreto attuativo della legge che si potrebbe discostare da quanto la legge in di vigore prevede quanto risposto dal ministro Colao non rispetta quindi la legge del 2020 ma nemmeno gli impegni presi a seguito di un intervento nei confronti dell'Italia delle Nazioni Unite nell'ambito del caso Staderini de Lucia contro l'Italia e nemmeno gli impegni assunti dal ministro con i comitati promotori del referendum il governo italiano aveva come accennato dal professor Pugiotto aveva infatti presentato nel procedimento di follow up davanti al comitato diritti umani dell'ONU la realizzazione della piattaforma come un rimedio al superamento degli ostacoli frapposti all'esercizio del diritto referendario da parte dei cittadini materia sulla quale le Nazioni Unite hanno condannato l'Italia nel 2019 appunto su iniziativa di Mario Staderini la mancata realizzazione della piattaforma rappresenterebbe pertanto un inadempimento degli obblighi internazionali oltre che un'ennesima violazione dei diritti politici dei cittadini qui si potrebbe aprire una parentesi che rappresenta un piccolo giallo o un sintomo di schizofrenia del governo italiano che da una parte con un ministero il ministero degli esteri davanti al comitato diritti umani dell'ONU ridendica l'introduzione della firma digitale proprio per il superamento di quegli ostacoli trapposti dalle procedure sulla raccolta diciamo analogica dall'altro con il ministero della giustizia da parere negativo all'emendamento a parere contrario all'emendamento a mia prima firma che poi ha portato alla norma transitoria anche questo anche questo accade inoltre nel merito della questione relativa all'autenticazione la firma elettronica certificata ha nell'ordinamento italiano un valore legale molto superiore alla firma autografa l'uso della firma elettronica qualificata produce infatti data la sua maggiore sicurezza rispetto alla forma autografa l'inversione dell'onere della prova in caso di disconoscimento della sottoscrizione dovrà essere lo stesso soggetto che contesta la posizione della firma a dover dare prova della falsa sottoscrizione come è noto nel caso della firma autografa la prova di falso non deve essere fornita dall'asserito sottoscrittore ma dalla controparte è quindi totalmente sbagliata l'equivalenza del documento digitale sottoscritto con firma qualificata al documento analogico sottoscritto con firma autografa e sorprende aver ascoltato invece quel tipo di affermazione da parte del ministro per la transizione digitale di fronte al Parlamento la necessità dell'autenticazione di una firma è strettamente legata alla possibilità della sua falsificazione come è noto per autenticare una firma è necessario che la firma sia apposta alla presenza di un pubblico ufficiale che accerta l'identità del sottoscrittore l'autenticazione è rimasta nell'ordinamento italiano anche per la firma digitale ma è evidente che la sua necessità deve essere commisurata alla possibilità della sua falsificazione mentre per la firma autografa la falsificazione è relativamente facile da fare e quindi concretamente possibile anche per atti che richiedono una significativa numerosità di firme come la sottoscrizione delle liste elettorali o le proposte di referendum la falsificazione di una firma digitale è possibile solo se si rubano le credenziali di accesso e o il relativo dispositivo di firma o se si ruba l'identità di un soggetto casi che in oltre 15 anni di utilizzo massivo della firma digitale sono stati sostanzialmente inesistenti grazie a regole stringenti sul processo di identificazione e sulla sicurezza dei dispositivi di firma mentre tutti sappiamo come le inchieste giudiziarie sulle falsificazioni di firme autografi in occasione della raccolta di firme le elezioni a tutti i livelli dalle amministrative alle regionali alle nazionali ci sono sostanzialmente ad ogni scadenza elettorale ultimo punto e mi scuso per la lunghezza il punto 6 la riforma è probabilmente il più cruciale e anche il più difficile da affrontare la riforma del giudizio di ammissibilità dei referendum se si intende lavorare per rivitalizzare la democrazia anche rilanciando l'istituto referendario oltre alla riforma del quorum su cui sono del tutto d'accordo con il professor Pugiotto bisogna affrontare appunto la questione del giudizio di ammissibilità del referendum e dei relativi limiti alla domanda posta dal professor Pugiotto come restringere l'arbitraria discrezionalità delle decisioni sui singoli quesiti referendari ottenendo che la consulta rientri nel perimetro delle sue competenze correttamente esercitate comprendo purtroppo molto bene le ragioni per le quali il professor Pugiotto esclude che un intervento del legislatore ordinario e costituzionale possa essere sufficiente la legge ordinaria si è rilevata più volte in idonea a intervenire su una competenza che è assegnata e regolata da fonti di rango costituzionali e addirittura l'articolo 2 della legge costituzionale numero 1 del 53 spetta alla corte costituzionale giudicare le richieste di referendum abrogativo giudicare se sono ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso è stato ritenuto privo di prescrittività dalla consulta proprio nella sentenza 16 del 1978 tuttavia fatico a ritenere che questa sia una ragione per il legislatore soprattutto costituzionale di abdicare alla propria funzione davanti alle resistenze della corte pur augurandomi in ogni caso che la corte per prima compia un'inversione di rotta rispetto alla propria giurisprudenza attenzione degli ultimi 44 anni che potrebbe anche tra l'altro servire ad introdurre elementi volti a una maggiore interlocuzione con i comitati promotori per esempio mutuando dal giudizio incidentale l'istituto della restituzione degli atti al giudice a quo che in questo caso potrebbero essere restituiti al comitato promotore senza chiudere definitivamente il procedimento sono convinto che il nostro ruolo debba essere anche in questa fase quello di non escludere una migliore riformulazione dell'articolo 75 della costituzione per aiutare i giudici della corte a liberarsi di una giurisprudenza nella quale essi stessi sono rimasti incastrati in altre parole non credo che necessariamente una modifica che tra l'altro sarebbe estremamente difficile non ce lo nascondiamo da ottenere e da raggiungere dell'articolo 75 sarebbe necessariamente più rispettata e diciamo i limiti indicati più presi in considerazione più rispettati semplicemente credo che anche per una lettura diciamo in una prospettiva storica serva in qualche modo una cesura serva a un punto che segni un nuovo inizio o che dia la possibilità alla stessa corte costituzionale di staccarsi da quella giurisprudenza che è pesantissima che è una giurisprudenza stratificata in decenni e che contiene tutta la discrezionalità che poi è il problema che noi abbiamo di fronte concludo rapidamente anche perché guardando al passato nel tempo si sono susseguiti diversi seminari tra i quali in particolare ne ricordo due il primo del 1996 presso il palazzo della consulta e il secondo del 1999 presso la stessa sala del retettorio nella quale abbiamo tenuto il nostro seminario del 18 luglio scorso e il titolo di questo del 1999 era tornare alla costituzione in cui illustri relatori tra i quali anche giudici emeriti e presidenti emeriti della corte hanno formulato inviti ed appelli alla corte stessa proprio per farla ritornare sui propri passi nell'ambito del giudizio di ammissibilità e dei limiti al referendum criticando anche aspramente la sentenza numero 16 del 1978 ci fu inviato un messaggio molto bello dello stesso paladin a quella al convegno eppure tuttavia tutti quegli appelli sono caduti nel vuoto penso quindi come è stato detto in diversi interventi anche nel corso del convegno del 18 luglio scorso salvare il referendum per rivitalizzare la democrazia rappresentativa che il legislatore parlamentare ormai nella diciannovesima legislatura che voglia occuparsi seriamente di questa agenda della democrazia non possa esimersi dal lavoro di avanzare e sostenere con l'aiuto dell'accademia di tutti noi una proposta di legge anche costituzionale per ridefinire e ridelimitare i limiti al referendum abrogativo grazie è prevista una pausa che direi di dieci minuti mi sembra ragionevole quindi se siete d'accordo entriamo in pausa per dieci minuti grazie grazie seppur in ritardo ringrazio Magi per il contributo estremamente puntuale che ci ha dato scusatemi sono un po' in imbarazzo fra gli amici vicini e quelli lontani va bene grazie 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 molti aspetti che erano nella relazione. In più ha dato gli elementi sulle intenzioni del governo di ridimensionare la firma digitale confinandola nella firma stessa e non nel processo di autenticazione e di certificazione elettorale. E alla fine è intervenuto sulle proposte di modifica illustrando delle scelte possibili diverse da quelle delineate da Andrea Pugiotto sulle leggi che regolano il procedimento referendario. Sono in arrivo altre sei persone per questo seminario compatibilmente con le difficoltà dei trasporti, ma noi abbiamo adesso un paio d'ore per approfondire questi temi. Credo che non abbiamo da mettere limiti di tempo agli interventi perché possiamo ampiamente avere a disposizione proprio per rompere il ghiaccio dico una riflessione che faceva nell'intervallo Mario Puglietti dicendo ma per le elezioni amministrative politiche non c'è un quorum. Le elezioni valgono anche se la partecipazione è inferiore addirittura al 50 alle supplettive e le elezioni comunque si è eletto il parlamentare e quindi è una differenza forse da cui si può partire e tenere conto che il referendum e elezioni. Ricordavo che una proposta di legge che credo a me appariva stramba e forse anche a Marco Boato che è qui presente dell'onorevole Tessari che aveva immaginato una diminuzione del numero dei parlamentari in relazione al tasso di partecipazione. Sì E vabbè quindi io Sì 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 una ripresa anche televisiva e quindi conviene venire qua e si usa quel quell'aggeggio ma vabbè adesso intanto passiamo questo allora chi viene allora abbiamo deciso ecco maria luisa boccia che peraltro domani sarà relatrice sì no 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 non anticipo non vi tolgo la sorpresa quello che dirò domani e invece sto strettamente sulla i temi e la l'analisi la riflessione che ci ha proposto qui andrea ed è allora prima osservazione vado proprio per punti sono due considerazioni breve rapide che introducono diciamo però secondo me una serie di questioni risolte e è vero e io l'assumo come significativa appropriata che c'è coesistenza tra referendum e parlamento sul piano come fonti normative dicevi c'è anche coesistenza sul piano politico cioè l'uno e l'altro due istituti che deperiscono o si rivitalizzano se si rivitalizzano entrambi e se vi si ristabilisce una relazione no positiva diciamo non appunto né di divaricazione né di sostituzione né di compressione dell'una dimensione la democrazia partecipativa e democrazia rappresentativa sono due facce che in qualche modo devono essere corrisponde da una stessa trama di rapporti di soggetti di forme e di della politica e della sua funzione seconda osservazione rispetto a i punti problematici che te che ha indicato io individuo un altro punto problematico un problema che è già presente che secondo me è molto serio quella della vanificazione del referendum che ha un esito positivo faccio e quindi proprio delle scelte di quella produzione di norma che dall'affermazione no positiva dal risultato positivo del referendum emerge faccio tre nomino solo tre questioni aborto l'applicazione dell'aborto nel nostro paese non è garantita in ricorso all'aborto tutt'altro acqua pubblica precidio assistito perché si può già ora accedere in determinate condizioni ma spesso si fa di tutto per renderlo impossibile per non ci sono fatti di cronaca che lo dicono continuamente quindi come si può intervenire su questo sono le butto lì perché per come me le sono formulate in testa mentre ascoltavo può esserci una funzione dei comitati promotori perché guardate sull'aborto le relazioni che il ministero della salute fa al parlamento non servono a niente da questo punto di vista non c'è nessuna forma di rendiconto di documentazione sono spesso solo occasioni per riaprire la polemica politica sulla bole politica ideologica sul sull'aborto ci possono essere cioè per esempio forme di accesso ai dati di rapporti di documentazione al parlamento ci possono essere organismi non amministrativi non che provengano diciamo e concidono con lo stato e con i poteri istituiti che possono avere questa funzione non lo so però credo che questo sia uno un problema da affrontare perché appunto puoi vincere e dopodiché quello che è che che scatta la reazione sia né non applicare né svuotare il risultato del referente e questo contribuisce al deperimento dell'istituto ovviamente non è ritenuto uno strumento efficace credibile da una parte della popolazione anche di quella partecipe io volerò molto basso però prima voglio ringraziare grazie a zuffa franco corleone e il professore andrea pugiotto per aver promosso questa iniziativa e versi invitato in capo al mondo mi verrebbe da dire penso al professor curelli che è venuto da enna dalla sicilia a fare questo bellissimo seminario interessantissimo però devo dire che i promotori e anche noi che siamo venuti qua dobbiamo avere o un grandissimo ottimismo o un epocale pessimismo perché a dieci giorni dal voto tre giorni dedicati a questo seminario quindi sottratti chi di noi la fa in modo diretto o indiretto la campagna elettorale vuol dire che siamo molto ottimisti comunque su quale sarà l'esito oppure temo talmente pessimisti da ritenere comunque ininfluente una partecipazione in questi tre giorni a una vicenda politico elettorale del nostro paese che temo sarà abbastanza drammatica per usare un eufemismo che non so non possiamo far finta di essere nel vuoto politico nel discutere qui queste tematiche che sono tematiche costituzionali istituzionali giuridiche e anche fortissimamente politiche però siccome anch'io avrò l'onore domani di intervenire dialogando con una relazione molto importante che farà domani il professor curreri mi limito soltanto a fare qualche osservazione molto breve molto marginale alla splendida relazione del professor pugiotto in parte avevo già letto cose sue su questi argomenti oggi era molto ricca molto ampia anche molto lunga ma positivamente lunga e quindi mi auguro anche di che in qualche modo ce la facciate avere online prima di pubblicare eventualmente gli atti che ci vuole sempre molto tempo però devo anche ringraziare radio radicale che è qui a registrare e quindi eventualmente io e altri potremo tornare tramite radio radicale a riascoltare questa bellissima relazione io ho fatto un po di fatica invece dovuta all'età e a essere un po sordo a ascoltare tutto quello che ha detto riccardo magge mi scuso con lui e con voi però io io facevo fatica a seguire dal punto di vista proprio dell'audio detto questo a margine delle cose che proprio a margine delle cose che ha detto il professor pugiotto ricordo un paio di cose gli faccio una domanda in parte l'ha già fatta la professoressa boccia poco fa maria luisa boccia poco fa allora a margine delle grandi difficoltà delle regole dei paletti per convocare il referendum ricordo un'esperienza che ahimè eravamo tutti e tre al senato grazie a franco e io franco io eravamo nello stesso gruppo federalista europeo ecologista al senato abbiamo fatto nel 1987 cernobil avvenne la catastrofe nucleare di cernobil avvenne nell 86 aprile dell 86 furono promossi i tre erano già in gestazione ma furono quella catastrofe di dell'impulso definitivo ai tre perché erano tre referendum abrogativi di tre specifiche leggi o parti di legge sulla questione nucleare e si sarebbe a quel punto votato nel mille siccome si è votato fatte le elezioni politiche anticipate di un anno nel 1987 si sarebbero celebrati fra virgolette il referendum nel 1988 mentre io stesso e insieme ad altri prese l'iniziativa da neo senatore di presentare un disegno di legge una tantum cioè non era un cambio delle regole ma era prevedere una tantum che quel referendum quei tre referendum e non erano solo quei tre ce n'erano anche altri connessi in parallelo non connessi si celebrassero nell'autunno dell'87 quindi è l'unico caso nella storia referendaria italiana adesso è l'unico caso in cui si vota a settembre con elezioni anticipate con campagna elettorale in estate per le elezioni politiche quello è stato l'unico caso in cui si è votato per quei referendum che sono stati decisivi nella storia italiana non solo quelli sul nucleare pensate la vicenda del caso torto il referendum sulla responsabilità civile magistrati eccetera nel si votò nell'autunno del 1988 e fra l'altro fu un grande successo un grande successo di partecipazione è un grande successo dei sì alla abrogazione seconda osservazione ripeto che faccio delle osservazioni marginali volando molto basso non arriverò mai all'altezza del professor pugiotto e neanche domani del professor curreri andrea pugiotto ha ricordato ampasano senza insistere su questo proprio l'ha citato ampasano ha ricordato il primo caso di mancanza del quorum strutturale ed è stato nel 1990 quando ahimè noi dico noi perché io ero e sono un verde era un verde anche quando ero nel gruppo federalista europeo ecologista del senato si chiamava ecologista proprio per questo promuovemmo in realtà furono i miei amici della camera all'epoca farlo io ero l'unico al senato insieme agli amici radicali del gruppo federalista europeo ecologista eh spadaccia eh stick livers di cito ehm e ha due amici socialisti ehm fu 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 promosso un referendum che avrebbe secondo me avuto il la grande partecipazione e anche una straordinaria vittoria dei sì che ancora oggi di un'assoluta attualità sui pesticidi a quel referendum una parte del mondo ambientalista eh non è una critica nel merito è una critica sulla tattica referendaria che si dimostrò fallimentare da questo punto di vista volle eh aggiungere anche un referendum sulla caccia anzi due referendum sulla caccia non rendendosi conto che mentre sulle pesticidi eh c'era un grandissimo consenso anche e particolarmente del mondo agricolo ma non solo di tutto il mondo ambientalista ecologista protezionista della salute eccetera e oggi è ancora più attuale di ieri e si sarebbe non vinto ma stravinto con la partecipazione eh il referendum aver agganciato a quello sui pesticidi il referendum sulla caccia provocò quello che poi il cardinal Ruini ha fatto molti anni dopo cioè le lobby potentissime piccole ma potentissime dei cacciatori e pieni di soldi e pieni di soldi investirono una valanga di soldi per invitare i cittadini e le cittadine a non partecipare al voto non a votare no perché questo sarebbe stato del tutto legittimo lobby o non lobby soldi non soldi legittima ma a non partecipare a volto al voto cioè come ha spiegato il professor Pugiotto ad aggiungere a quella quota chiamiamola fisiologica grosso modo all'epoca del 30 per cento di forse anche un po' meno all'epoca di astensionismo fisiologico anche se fisiologico non è eh aggiungere quel 20 per cento che bastava per far fallire il referendum e così fu e fu la prima volta che ripeto il professor Pugiotto l'ha ricordato ma l'ha ricordato a un passante novanta era già successo nel novanta sì ma io me lo ricordo sulla carne viva quel era già successo nel novanta perché fu un fallimento dovuto a un'operazione che poi il cardinale Ruini eh eh imitò alla lettera eh alla lettera eh nel referendum sulla precauzione assistita poi la corte costituzionale lì è intervenuta fortemente su quella legge e eh censurandola sotto il profilo costituzionale ripetutamente però il fallimento di quel sacrosanto referendum eh fu dovuto al fatto che il cardinale Ruini avendo imparato dalla lobby dei cacciatori che si poteva far fallire così un referendum eh fece solo la campagna astensionista non andate a votare aggiungete l'astensionismo all'astensionismo virgolette per così dire fisiologico un astensionismo attivo che ovviamente ottenne il risultato che voleva che voleva ottenere e l'invito ad andare al mare fu quello che fecero tutti ricordano Craxi ma si dimenticano che fu Craxi e Bossi e nel novantuno referendum sulla preferenza unica che invitarono andare al mare ma in quel caso i cittadini siccome quello è un tema molto sentito e oggi ancora di più sentito il fatto che non c'è la preferenza unica o non c'è più nessuna preferenza nessuna preferenza cioè i cittadini sono stati espropriati totalmente della possibilità di scegliere deputati e senatori e Craxi all'epoca incautamente scioccamente e Bossi con lui ma tutti ricordano Craxi e nessuno ricorda Bossi ma erano entrambi a dire di andare al mare ma in quel caso non funzionò nel novantuno il referendum chiamiamolo segni o pannella segni anche per altri aspetti ebbe un grande successo come ebbe un grande successo il referendum del diciotto aprile data epocale nella storia italiana del novantatré che poi diede vita alla nuova legge elettorale doveva riguardare il senato ma riguarda anche la camera che va sotto il nome di legge mattarella o come chiamava sartori queste leggi mattarellum e poi porcellum e poi talicum e poi rosatellum tutte cose un po ridicole ma che fu sartori a iniziare questo tipo di denominazione ironica comunque la legge mattarella era mille volte migliore della legge attuale nonostante nonostante a limiti che aveva e che stavamo cercando di modificare nel 2005 se non ricordo male all'epoca io ero la camera e in quel momento si inserì il centrodestra che all'epoca governava con il cosiddetto porcellum ribattezzato da sartori ma devo dire onestamente che calderoli il giorno dopo l'approvazione di quella legge disse abbiamo fatto una porcata e quella porcata ha dato si ha dato adito alla definizione di porcellum l'ultimissima cosa ci ha detto troppo e domando scusa se ho portato via troppo tempo è una domanda che in parte ha fatto anche maria luisa boccia e che faccio anch'io più esplicitamente al professore pugiotto comunque premesso che io condivido le tre proposte finali di andrea pugiotto le condivido tutte e tre premesso che sono molto pessimista che mai queste pro forse la prima può darsi che abbia qualche possibilità ma ma non sarà in questa legislatura ma comunque io quelle condivido tutte e tre ma sono io non sono di carattere pessimista sono uno che ha sempre lottato e ho anche ottenuto dei risultati in parlamento per esempio aver abrogato l'accezione alla pena di morte all'articolo 27 della costituzione salvo nei casi previsti dalle leggi militari di guerra io sono felicissimo che nella mia ultima legislatura ho fatto approvare oltre i due terzi quella modifica costituzionale per cui all'ultimo comma del 27 della costituzione oggi è scritto non è ammessa la pena di morte punto ma per 50 anni era scritto non è ammessa la pena di morte salvo nei casi previsti dalle leggi militari di guerra ma quindi in parlamento si possono fare delle cose si possono ottenere risultati riccardo mangi ne ha ottenuto sia pure non è stata garantita la continuità di quella conquista sulle firme digitali ma è stata una cosa molto positiva ma quello che chiedo ad andrea pugiotto se immagina qualche strumento ovviamente politico è la battaglia politica ma giuridico istituzionale rispetto al totale svuotamento di una serie di referendum non solo è stata ricordata dal 194 sull'aborto eccetera però lì è uno svuotamento organizzativo diciamo con l'obiezione di coscienza ma parlo dello svuotamento proprio del la boccia ha citato per esempio l'acqua pubblica e tu hai citato i referendum promossi dalle regioni dalle regioni da alcune regioni più di cinque comunque su alcuni ministeri le cui competenze statali in realtà dovevano a norma di costituzione essere in capo alle regioni furono vinti quei referendum ci fu il quorum e dal giorno dopo comincia l'operazione di ribattezzare i ministeri con altro nome pensiamo ministero dell'agricoltura che si è chiamato ministero delle politiche agricole e forestali e così vale il ministero sul turismo erano quattro cinque ministeri non mi ricordo neanche più esattamente non parliamo quelli sul nucleare noi abbiamo avuto quattro referendum sul nucleare tre nel 87 e uno dopo fukushima nel mi pare 2011 non vorrei sbagliarmi forse in contemporanea di quello sull'acqua pubblica e per oggi è incombente spero di no ma è incombente la riproposizione per l'ennesima volta della scelta parlo del nucleare civile cosiddetto allora chiedo e concludo ad andrea pugiotto immagini tu in qualche forma di vincolo giuridico per cui non si possa disattendere così platealmente così totalmente i risultati di alcuni referendum lasciamo stare che dopo il 2011 praticamente sono falliti tutti per mancanza di cuore ed è per questo che io sono ahimè pessimista sulla sono favorevolissimo allo strumento referendario ma sono pessimista sul futuro e giustamente è stato ricordato corleone citava che alle elezioni politiche regionali comunali non c'è un quorum ma il 138 sulle riforme costituzionali non ha un quorum di validità e ci sono stati tre referendum sul titolo quinto vinto per la conferma il titolo quinto sulla legge chiamiamola berlusconi carneroli la riforma della costituzione che fu vinto da chi voleva abrogare o non fare entrare in vigore meglio quella quella riforma stessa cosa nel 2016 se non ricordo male la riforma costituzionale renzi boschi ma senza cuorum di validità e riguarda la riforma della costituzione e quindi pugiotto ha ipotizzato due soluzioni una di togliere il quorum che sarebbe la più razionale l'altra chiamiamola di compromesso ragionevole di mettere un quorum di validità in relazione alla partecipazione al voto delle ultime più recenti elezioni politiche condivido tutte e due le proposte anche quella fra virgolette di compromesso ma mi chiedo e chiudo se se c'è qualche strumento che il costituzionalista pugiotto e ci sono altri costituzionalisti qui presenti immagina per disincentivare o per impedire il totale svuotamento delle vittorie referendarie quando ci sono state ho fatta anche troppo lunga vi domando scusa vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio andrea pugiotto se mi darà qualche osservazione di risposta io molto brevemente anche perché vorrei che siccome in un inciso pugiotto ha detto che noi pensiamo anche io comunque non ho sentito bene magi quindi volevo dire una magari l'ha detta ma mi ero distratto nel dire l'accidenti non si sente nulla allora la mistica della democrazia digitale poi ce la chiariamo anzi sarebbe utile che tu la chiarissi che è un inciso nel pezzo invece ottimo che è uscito due giorni fa sul 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 riformista perché ci porta al primo dei tre punti anch'io sottoscrivo tutte e tre le proposte salvo poi trovare noi del tempo oggi o in futuro di spostarsi dal cosa sul come perché la prima per ci possono è la ferma digitale che va oltre la sottoscrizione di referendum e proposte di legge d'iniziativa volare a livello nazionale però e non a livello regionale esiste eh come dicevo prima il governo si è costituito contro l'ultimo ricorso ex articolo settecento che abbiamo fatto due di settembre il diciannove di di lunedì di settembre ci sarà l'udienza davanti al tribunale di milano non non è stata fatta una conferenza stampa non a mia insaputa ma mia mia assenza perché non prendeva il telefono qua posso solo anticipare il primo dei gli argomenti utilizzati dall'avvocatura dello stato è che caro giudice che tra l'altro è il figlio di borrelli se tu riammetterai la lista referendum e democrazia noi dovremo spostare le elezioni addirittura dicendo di settanta giorni quindi fai te questo proprio quasi testuali parole poco importa il diritto la partecipazione ciò che prevede la costituzione ciò che è stato fatto l'anno scorso ciò che prevedono alcuni regolamenti europei il fatto che dal 2014 esiste al sistema per l'identità digitale il problema qui è spostare le elezioni quindi comunque vada la questione di urgenza lunedì rimarrà poi la questione di merito che il tribunale di milano e la cosa importante che comunque è stata riconosciuta la giurisdizione al tribunale ordinario per discutere di queste materie c'è un percorso già avviato noi sappiamo che io non so se si auguri a zingaretti di essere eletto ma se venisse eletto comunque ci saranno delle elezioni anticipate per quanto riguarda il consiglio regionale lombardo e la prossima primavera altri vanno a votare qui si vota in questa regione anche in lombardia e la lombardia qualche giorno fa grazie al consigliere regionale di più europa usuelli ha fatto adottare il consiglio regionale una mozione in cui in effetti si guarda con favore anche alla possibilità di sottoscrizione di liste tramite la firma digitale in più abbiamo tutta un'altra serie di esempi e quando si potrà pubblicheremo le memorie le due memorie curate da professor guzzetta che ci aiutano quindi questa è una questione molto importante che ci aiuta anzi esonda dalla parte referendaria che anch'io ritengo non essere alternativa o contraria o foriera di populismi e forse anche l'esempio che è stato fatto prima del plebiscitarismo qui ora però sembro il padre eterno con questo strano ecco non credo che chiaramente non è contraria ma non è nemmeno foriera di plebiscitarismi e ci aiuta a arrotondare ulteriormente la democrazia partecipativa quindi diretta e partecipativa io in un inciso ho soltanto annunciato questa nuova possibilità di uso di strumenti democratici che è già stata sperimentata devo dire dal punto di vista del merito perché sono d'accordo con il risultato in maniera positiva in alcuni paesi come l'irlanda che è la democrazia deliberativa che avviene attraverso queste assemblee dei cittadini e ora finalmente ci è arrivata anche la treccani a usare il singolare femminile prima del singolare maschile quindi dobbiamo trovare una formula neutra che se le vogliamo chiamare assemblee civiche dove la cittadinanza su temi non esclusivamente locali come si faceva in passato viene estratta a sorte e in un percorso di almeno sei mesi affronta e approfondisce alcuni tempi. L'irlanda grazie a ciò è riuscita a non soltanto legalizzare l'aborto ad aprire un dibattito che ha portato a una situazione simile alle coppie dello stesso sesso e ha avuto un primo ministro che aveva un cognome indiano che era apertamente gay. Sarà un caso? Sarà collegato al fatto che si è data una possibilità di approfondimento e partecipazione diretta della cittadinanza a determinati tipi di temi che vengono considerati in Irlanda come da noi divisivi o comunque eticamente sensibili? Forse sì, forse no. Certo è che se non esiste una norma che consente questo tipo di possibilità di democrazia deliberativa potranno essere degli esercizi diciamo tra amici. Noi abbiamo anche cercato, l'associazione Luca Coscioni ha cercato addirittura autotassandosi di convocarne una, non si trovava una parte contraria ai temi che volevamo porre all'attenzione di queste assemblee. I temi erano gli stessi del referendum, abbiamo provato a farlo sulla qualità dell'aria, ma anche lì è chiaro che nessuno deverà dire no, è buona la pessima qualità dell'aria e quindi il contraddittorio non c'è. Però a parte appunto, quindi diciamo, proprio perché non vogliamo vedere una democrazia in contrasto con l'altra, teniamo presente che recentemente c'è stato anche l'emergere di questa nuova possibilità che la chiamano deliberativa, ora in italiano non so se deliberativa si possa tradurre automaticamente con deliberativa, ma è sicuramente qualcosa a che ci può essere. C'è poi, e questo forse per un qualche, un futuro da non dimenticare la dimensione se non altro europea della democrazia. Noi siamo reduci da una risoluzione adottata al Parlamento europeo 24-48 ore fa che per la prima volta invoca il famigerato articolo 7 nei confronti di uno Stato membro che non è più considerabile una democrazia, io direi liberale, perché poi non è che sia solo l'Ungheria che si comporta in un determinato modo su alcune questioni, i vicini della Polonia ora sono necessari perché si stanno ospitando milioni di Ucraini, ma non è che vadano molto meglio, anzi per certi versi sono andate prima e molto peggio a rompere la separazione dei poteri. E anche questa dimensione di democrazia, non so se la vogliamo chiamare continentale o trasnazionale, è qualcosa che a noi ci può, diciamo, tornare necessaria da includere perché in particolare ne abbiamo iniziato a parlare qualche mese fa, ma il tuo secondo obiettivo che ancora mi pare non abbia trovato un luogo se non formale, addirittura anche diciamo così accademico politico di possibilità di sviluppo e cioè come possiamo noi da fuori come comità di promotori vabbè non ci siamo più perché non c'è più il referendum anche se l'associazione è rimasta o l'accademia o i giudici stessi perché se tra quindici diciamo noi sappiamo che nel caso del referendum sull'eutanasia un terzo aveva votato a favore dell'ammissibilità e nel caso del referendum almeno due non erano contrari qualche voce distenziente all'interno c'è come si può trovare quella la miccia perché con questo tipo di ravvedimento operoso avvenga all'interno della corte costituzionale in modo che poi porti al risultato spiegato che è quello di rivedere questa colpetta avvelenata o non mi ricordo come l'hai chiamata te che ci portiamo dietro dal 78 direi io con non sto qui a fare la tiriterra pannelliana di pc piscalfari p38 eccetera eccetera però tutto iniziò con la prima decisione pessima che anche tu andrei ricordato prima del 78 grazie è molto interessante quello che sono monica toraldo di francia quello che volevo capire è se il ruolo era davvero deliberativo o consultivo perché in inghilterra sulle questioni eticamente sensibili da sempre funziona così no e noi tante volte anche come comitato nazionale biovetica abbiamo cercato di spingere in questa direzione però ecco io la chiamerei più consultiva che non deliberativa per questo volevo capire meglio possiamo fare così non rispondo adesso prendo la proposta di legge che è stata presentata sia con un tentativo popolare che con un tentativo parlamentare alla fine della legislatura e poi rispondiamo da lì è deliberativa perché la legge che istituisce le assemblee dei cittadini prevede che il risultato un po' come le iniziative europee dei cittadini no tu raccogli ahimè un milione di firme su sette da sette stati e poi le porti all'attenzione del legislatore non è consultiva è come se tu introducessi un un item per la discussione o obblighi loro a prendere una decisione su questa questione qua la legge di iniziativa popolare è qualcosa che è scritta da un comitato e posta alla per la sottoscrizione di almeno cinquantamila persone qui è un parlamento se ne frega qui si tira a sorte chi partecipa alla preparazione del documento e chiaramente non è tutto limitato all'estrazione a sorte e ai sei mesi di dibattito è un lavoro che porta via molto tempo e che accresce la consapevolezza e il dibattito culturale non più sulle posizioni chiamiamole ideologicamente prestabilità o pregiudiziali ma si accompagna in un cammino di engagement di coinvolgimento sociale chi per caso è stato chiamato chiaramente ci si può rifiutare no non c'è la come negli stati uniti le giurie non è che poi non ti si richiama o ti tocca dimostrare che sei impegnato per non andare però è un qualcosa che va creato tramite una norma di legge perché così appunto ci si pone il primo problema del non consultivo perché anche spesso anche i comuni hanno dei referendum consultivi e poi diciamo l'altro scusa l'altra cosa dell'inghilterra il referendum della brexit in teoria era consultivo oppure quello non era diciamo perentorio e i processi di che fanno gli inglesi hanno fatto un po prima di noi della nostra legge 40 era un processo che si potrebbe quasi chiamare di peer review è iniziato con chi ne sapeva e poi sono andati in giro per il paese a chiedere ecco qui sarebbe un ibrido o comunque una commissione di queste due cose però posso che parlano gli esperti e coinvolgono le persone sono queste 100 persone ora mi pare che siano 100 il numero minimo necessario che stratte a sorte rappresentano su criteri proporzionali e quali qualificazioni demografiche la cittadinanza che secondo me è già un limite di per conto suo perché i non cittadini non possono partecipare e questa è una delle questioni che però se uno non si pone mai come problema non riuscirà a capire quale può essere una possibile soluzione per ovviare a questa limitazione mi pare che ci stiamo espandendo molto nella discussione Mario Pugliatti allora io volevo riprendere un momento la considerazione fatta dalla professoressa boccia ossia lei si è chiesta i cittadini decidono se sono in maggioranza i partecipanti su un quesito riferendario e quella decisione del popolo sovrano spesso non trova nessun tipo di applicazione vera allora una premessa il referendum è solo abrogativo lei ha citato alcune questioni una l'aborto non c'è stato un referendum sull'aborto il Parlamento fatto una legge per evitare il referendum nel 75 sono state raccolte le firme su un pacchetto di referendum in cui c'era anche la questione aborto sia l'abrogazione di alcuni articoli che stavano al titolo decimo del codice penale reati contro l'integrità la sanità della stirpe che per fortuna non esiste più e il Parlamento per non fare quei referendum per esempio la legge Basaglia era un altro referendum richieste referendum abrogativo no ecco allora lì il Parlamento ha legiferato prima del referendum per far saltare il referendum convinta la maggioranza che il referendum sarebbe stato sicuramente vinto perché il clima di allora era quello però fatta questa questo distinguo uno per tutti insomma no la responsabilità civile magistrati no 80 eroti per cento di favorevoli la responsabilità civile magistrati in Italia non esiste no ecco l'abrogazione citava prima Marco Boato no il ministro del turismo ministro agricoltura eccetera sono stati referendum vinti che sono stati tranquillamente bypassati cambiando il nome del ministero su queste questioni il ragionamento di base era che tutta una serie di competenze dovevano essere trasferite alle regioni no e in buona parte già le regioni le hanno sicuramente le regioni speciali no questa regione l'agricoltura è una delle competenze tra virgolette primarie no ecco per esempio e però non è cambiato assolutamente nulla il baracone del ministero agricoltura è là esattamente come prima il ministero del turismo è là no per cui paradossalmente c'è la promozione turistica fatta dallo stato e la promozione turistica fatta dalle singole regioni per cui ogni regione ha i suoi uffici di rappresentanza in giro ha i suoi budget per promuovere eccetera quindi sono attività che si accavallano spesso non hanno anche nessun tipo di coordinamento no ecco però la cosa che mi appremmeno di più è il discorso della responsabilità civile di magistrati no perché lì il buon vassalli alla fine ha fatto una frittata insomma ecco allora non so allora esiste un modo ci sono dei ragionamenti no eh che voi fate no ecco rispetto a questo perché se no anche questo è uno dei modi no per svalutare lo strumento referendario no tanto è inutile andare no perché non cambia niente grazie professor curreri poi andrea sandra poi grazie a zuffa scusa prima c'è meringolo qui grazie io vorrei cercare di essere di corrispondere al credo al carattere propositivo di di questo incontro e premetto che eh condivido quasi interamente il relazione di di andrea del collega pugiotto però proprio in questa diciamo in questa finalità propositiva volevo fare due eh considerazioni eh propositive per l'appunto io non sono così ottimista sulla capacità della corte sospinta da una movimento di opinione a cambiare la il suo orientamento che credo essere insieme al problema del quorum il grande problema del referendum credo che eh il tema del referendum forse da questo punto vista presenta degli aspetti similari a quello che tratterò domani sul Parlamento cioè sono entrambi temi che segnalano un arretramento della nostra democrazia e forse proprio la vicenda eh ultima della del quesito sull'eutanasia dimostra come la corte ormai è eh come dire capace anche di resistere ad una pressione popolare su un tema che era evidentemente eh intercettava evidentemente diciamo non dico il consenso ma certamente l'interesse dell'opinione pubblica ecco da questo punto di vista io eh temo che la corte ormai abbia costruito una giurisprudenza che somiglia un po' una ragnatela che permette ad essa di poter tranquillamente giocare eh il quesito in un senso positivo o negativo mh ormai lo diciamo in dottrina da parecchio tempo il giudizio di ammissibilità è un giudizio cabalistico non imprevedibile non non si sa che tipo di argomenti la corte possa sfruttare essendo parimenti possibile sfruttarli in un senso positivo o o negativo allora se così è se cioè ci troviamo di fronte come dire alla la figura del di Achille e la tartaruga cioè Achille la tartaruga Achille cerca di raggiungere la tartaruga ma la tartaruga la corte farà sempre un passo avanti e quindi il tentare sempre di come dire riuscire a mettere in difficoltà la corte a me come dire suscita sempre un po' di perplessità perché la corte sarà sempre poi ad avere l'ultima parola e a poter come dire essere raggiungibile allora cerchiamo di mettere in difficoltà la corte cerchiamo di come dire di farla giocare con le sue stesse carte e quindi anticipiamo il giudizio di ammissibilità ora su questo io ho sentito che tu sei perplesso diciamo in disaccordo allora dico subito che io non sono nemmeno concordo con te sul giudizio negativo della proposta ceccanti perché la proposta ceccanti ha un retropensiero cioè anticipiamo il giudizio di ammissibilità perché altrimenti la corte come dire si dovrebbe in questa maniera giudicare a cuor leggero con meno pressione questo tipo di ragionamento non mi convince proprio perché appunto ho detto che la corte è capace alle spalle larghe e voglio sperare che la corte non sia composta da persone che possono essere influenzabili invece anticipare il giudizio di ammissibilità se ho capito bene secondo te significa togliere natura giurisdizionale al giudizio e come dire costringere la corte ad una dialettica politica che snaturerebbe il tipo di giudizio ora premesso che invece secondo me l'anticipo risponderebbe a quel principio di leale collaborazione che tu richiamavi all'inizio e cioè il fatto che la corte dialoga col comitato promotore e in questo dialogo fecondo potrebbe anticipare suggerire alla al comitato promotore stesso le modifiche per rendere il quesito ammissibile io non credo che la tempistica del giudizio incida sulla sua natura per me rimane un giudizio giurisdizionale anche perché non è che si innescherebbe una un dialogo io proprio a questo proposito ho fatto una ricerca tra l'altro eh Riccardo Maggi ha avuto l'amabilità di ricordare che appunto abbiamo fatto questo convegno a lui a cui ho partecipato e proprio per sviluppare questo tema io ho visto che il problema del giudizio di ammissibilità in realtà è stato già oggetto di due proposte di legge una prima addirittura del governo disegno di legge rognoni 1905 del 22 luglio 1980 in cui si diceva espressamente che l'esame della corte deve essere preventivo ma ancora più interessante per il modo di come dire con cui struttura la proposta è il disegno di legge bozzi numero 2619 del 25 581 dove e mi permetto di citare si afferma che la corte costituzionale qualora ritenga inidonea la formulazione dei quesiti da comunicazione ai promotori delle richieste di referendum della modificazione dei quesiti stessi ritenuta necessaria e della data entro la quale deve pervenire l'eventuale risposta di rifiuto non è un dialogo perché questo sì porterebbe diciamo a una forse inopporto sicuramente anzi inopportuna eh discussione che naturalerebbe il giudizio della corte ma il fatto di anticipare le obiezioni di ammissibilità e di consentire quindi al comitato promotore di poter correggere in corso di opera il quesito per rispondere ai ai rilevi della corte non credete che costringa la corte come dire a essa stessa superare la sua giurisprudenza e indicare la rotta giusta verso cui andare a me pare diciamo una soluzione su cui riflettere fermo restando e chiudo che come costituzionalisti io ritengo che questo problema del referendum lo dovremmo come dire porre all'attenzione della nostra comunità perché forse qualche cosa per riuscire a rivitalizzare questo strumento essenziale della nostra democrazia quella che pannella chiamava la seconda scheda andrebbe fatto grazie grazie professor curreri mi pare che ha posto elementi per la discussione andrea sandra poi patrizia meringolo poi grazie a zuffa e poi anch'io voglio ho preso appunti e voglio aggiungere carne al fuoco ma in realtà io vorrei chiedere al professor pugiotto proprio una dimensione quasi classica da studente a professore rispetto a quello che ha detto se mi può spiegare meglio un concetto perché non mi è del tutto chiaro il tema è quello della partecipazione cioè della democrazia partecipativa o rappresentativa io un po' per retroterra educativo di studi ma anche politico ho sempre pensato che la democrazia rappresentativa fosse cioè sì rappresentativa fosse un elemento naturalmente da salvaguardare per una migliore espressione della democrazia devo dire che poi con l'andare degli anni e anche avendo vissuto in maniera molto intensa una stagione importante della democrazia partecipata che è quella dei primi anni 2000 e che ha visto fra l'altro tantissime esperienze anche all'interno dei comuni con strumenti come il bilancio partecipativo che hanno dato vita a esperienze importantissime anche per la vita dei cittadini e che hanno avuto una partecipazione appunto molto importante con cose anche significative fra l'altro per duca ricordava un'esperienza invece straniera che comunque io ritengo assolutamente significativa importante e credo che questo debba mettere un po' in discussione quello che è la primazia attuale della democrazia rappresentativa che in una ottica secondo me di restaurazione ha inibito più che ha potuto successivamente a quella stagione di cui parlavo gli strumenti di democrazia partecipativa tant'è che siamo arrivati al punto estremo come è stato ricordato e noi andiamo a votare candidati per un parlamento candidati di cui abbiamo soltanto il nome e cognome che ci viene comunque neanche in un ordine possiamo decidono anche l'ordine con il quale noi dobbiamo decidere ecco è stato detto nella relazione che una democrazia partecipativa troppo esposta rischia di provocare delle situazioni anche di populismo mi sembra di aver capito mentre la democrazia rappresentativa è l'unica che in qualche modo anzi è stato detto anche personalmente io sono persona liberale quindi ritengo che la democrazia se ho capito bene per questo la domanda ecco questo concetto vorrei che mi fosse un po più chiaro perché non è invece liberale avere una democrazia partecipativa un pochino più importante di quello che è adesso che è assolutamente schiacciata da dalla restaurazione che è stata messa in atto e non ho capito neanche tanto bene qual è il rapporto tra uno strumento referendario che ormai è rimasto l'unico come democrazia partecipativa perché effettivamente è l'unico nel quale i cittadini raccolgono firme e esprimono liberamente una propria idea anche al momento del voto come può essere questa diciamo funzionale a una democrazia rappresentativa che invece a mio modo di vedere in questo modo dovrebbe essere come è stato peraltro detto anche da altri maggiormente condizionata da quella che è stata una volontà popolare partecipata grazie io direi che poi ci aspettiamo una relazione conclusiva no 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 siamo nei tempi patrizia meringolo alcune osservazioni perché mi rendo conto che a volte mi succede che non mi ascoltano allora solo alcune osservazioni perché come luisa probabilmente le cose che mi interessano tengono di più al discorso delle delle prossime parti del del seminario di treppo allora secondo me ho apprezzato molto l'elaborazione su democrazia rappresentativa partecipativa però la vera crisi è nella democrazia rappresentativa perché non è chi era esente dalla partecipazione anzi per molti anni è stata anche uno strumento di partecipazione è quando è andato in crisi quel nodo su e d'altra parte il il referendum allora chiamarlo come unico cioè far rappresentare la democrazia partecipativa solo dal referendum è un po' stretto il vero lavoro partecipativo lo fa il gruppo promotore per alcuni referendum degli ultimi per qualcuno non è stato un gruppo promotore penso a quelli promossi dalla lega che di fatto c'era il lavoro del gruppo che lo promoveva il problema è che gli strumenti possono essere importanti le firme digitali sono una realtà in molti in molti campi parlarne di democrazia digitale è un po troppo anche per questo però possono essere degli strumenti utili il nodo grosso io lo vedo nel fatto che come è crollata la sfiducia nella politica la sfiducia nei partiti anche nel referendum tant'è vero che quando non siamo d'accordo su un referendum e dico non siamo perché è una cosa che pervade molti non è che si va a votare no non ci si va perché tanto non raggiunge il quorum oppure si guarda se raggiunge il quorum e poi semmai e questo è un atteggiamento non diciamo che non esiste perché esiste e quindi vanifica il referendum come possibile strumento quindi io credo che in qualche modo il referendum patisca del disinteresse della politica che riguarda partiti e movimenti più in generale sulla democrazia deliberativa dell'Irlanda quella una cosa interessante perché per certi aspetti mutua alcuni strumenti che nella ricerca sociale sulla partecipazione si chiama delfi method che è molto interessante ma lì ti richiede non è solo un fatto tecnico un livello di motivazione molto alto per cui si ritorna al problema di cui ci occuperemo anche domani della motivazione alla politica e del percepire la politica come un momento di azione collettiva che è questo che si è perso però ne riprendiamo domani grazie grazie a Zuffa ma molto velocemente mi inserisco sul esempio di Puglatti sulla responsabilità civile dei magistrati che giusto appunto volevo aggiungere diciamo a quelli già portati da Maria Luisa e da Marco Boato volevo aggiungerlo perché intanto perché io ero in Parlamento nel momento in cui si discuteva della responsabilità civile dei magistrati quindi alcune cose le colgo diciamo in presa diretta lì quello che mi colpiva e che continua a colpirmi era da una parte il grande consenso nell'annullare quella volontà o comunque diciamo nel togliere forza il più possibile a quella volontà popolare e dall'altra diciamo l'idea non completamente espressa perché naturalmente nessuno voleva dire che i due pilastri della democrazia erano in conflitto diciamo esplicitamente ma diciamo implicitamente era così cioè implicitamente c'era in questa diciamo unanime tentativo di comprimere il più possibile la portata di quel voto l'idea che adesso esercitiamo un potere possiamo esercitare un potere che ci dà in qualche modo la possibilità di restringere diciamo quello che è venuto fuori dall'altro potere ora il problema è che questo questione cruciale che voi appunto avete già sottolineato cioè di fatto dell'annullamento di quello che è stato deciso con il referendum questo argomento è svalutato nel dibattito politico e per questo ritorno un po' al problema diciamo della coesistenza che sono perfettamente d'accordo diciamo su una linea che è quella della coesistenza in qualche modo no? il problema è che da una parte storicamente in realtà è stato vissuto come un conflitto e quindi con chi aveva in qualche modo il potere il tentativo di comprimere l'altro polo e dall'altra però questo argomento che dovrebbe essere molto forte quella appunto della svalutazione di quello che è uscito dal referendum non emerge con forza voglio fare un altro esempio la legge sulle droghe diciamo quella alla fine giovanardi contro il referendum del 93 non è che non c'è stata opposizione in parlamento ma l'argomento badate che è stato fatto un referendum neanche secoli prima è che andava in una determinata direzione poco in qualche modo è stato usato poco è stato portato avanti come se e poco forse anche nella società questo è stato portato avanti l'esempio che faceva maria luisa dell'aborto anche se naturalmente aveva ragione poi atti che lì c'è stato però è fortissimo perché lì è stato una legge che essendo stato respinto referentum avvocativo è stato addirittura rafforzata ha avuto una legittimazione popolare in qualche modo perché è stato appunto respinto quello che lo voleva approgare quindi e ciò nonostante sul piano dell'applicazione ha perfettamente ragione è una delle leggi che non voglio dire forse ce ne saranno altre ma insomma che incontra i maggiori ostacoli allora questo dà l'idea di come non solo naturalmente siamo in presenza di un doppio declino in qualche modo l'abbiamo già detto ma di come dobbiamo trovare trovare il modo di rivalutarlo quello e in qualche modo sia rivalutato anche fra chi invece nel referente ci crede chi l'ha promosso nel comitato promotore eccetera naturalmente una forma di questa svalutazione è anche un certo dibattito e un certo modo di presentare la firma digitale io l'ho detto e poi l'ho anche scritto a partire dall'esperienza per esempio del referendum cannabis legale ma non è vero nulla che ha raggiunto le firme perché c'è la firma digitale ha raggiunto le firme perché c'è stato un movimento di anni e non dire questo è un fatto di grande svalutazione della partecipazione del movimento oltre a essere un po' tu hai portato già degli esempi per dire che non regge a confronto con altri referendum ma insomma scusatemi il fatto stesso che si possa dire è in qualche modo come dire un certo modo di svalutare anche quello che viene fatto da parte dei movimenti e da parte che in qualche modo promuove delle battaglie ultima questione la questione del quorum che tu hai posto allora io sono per la soluzione radicale per la semplicissima ragione che ha detto Marco perché è razionale cioè è difendibile c'ha dietro la sua ragione mentre invece quello che sembra un compromesso cioè quello che sarebbe un compromesso francamente le ragioni per sostenerlo al di là di quello di dire è un compromesso a mezzo non ci sono e quindi per la battaglia politica mi sembra debole come discorso meglio fare un discorso più limpido che ha le sue ragioni e portarlo avanti bene allora avevo detto che mi ero iscritto per fare qualche osservazione e poi c'è mimmo passione e poi c'è mimmo passione che è arrivato tardi ma ha sentito tutto e quindi interverrà adeguatamente no volevo fare alcune osservazioni partendo da quello che ha detto Marco Boato sulla ragione perché siamo qui impegnati o no in campagna elettorale in realtà anche chi non è impegnato in campagna elettorale direttamente molto preoccupato perché non sono elezioni normali e quello che può accadere dalle elezioni non sarà un risultato normale quindi il fatto di essere qui è perché vogliamo fare una discussione tutta sulla crisi della politica e questo qualcuno direbbe il grumo su cui vogliamo tentare di ragionare e scalfire e partiamo dal referendum perché è uno strumento che divide c'è troppa paura di argomenti che dividano e siccome la crisi nasce anche dal consociativismo anche finalmente noi dovremmo porre al centro la possibilità di dividere altro che argomenti divisivi e per questo io dico che nelle proposte che mi sentirei di fare noi abbiamo forse una necessità di porre la questione di eliminare tutti i blocchi nella possibilità di presentare referendum e votarli ma perché non si devono votare con le elezioni politiche proprio temi del referendum sono proprio l'occasione per cui fai sì schieramenti chiari su questioni quindi questo mi pare un poi tornerò su queste su queste questioni però io penso sento drammaticamente ma non è il problema se la Meloni è fascista o no che è un dato biografico assodato ma il problema è che come diceva Gobetti si rivela che il fascismo è l'autobiografia di questo paese quindi è una cosa un po' più drammatica, più seria forse allora prepariamoci ad affrontare una grande crisi della democrazia e allora partiamo dal referendum e dalla Corte Costituzionale perché questo è il punto il referendum è in crisi sì certo per la non applicazione, la truffa delle etichette per cui il Ministero dell'Agricoltura diventa un'altra cosa però insomma sono accidenti ma rispetto il problema del ruolo della Corte Costituzionale fa parte della crisi della Corte Costituzionale fa parte della crisi delle istituzioni e Pugiotto l'ha messo in luce chiaramente Dio fa no? acceca chi vuol perdere Amato non si è accorto che ha costruito una decisione politicista o politica per dire no a quel referendum e questo mi fa pensare a un ruolo cioè nessuno l'ha sollevato ma insomma questa questione delle corti come la Corte Suprema degli Stati Uniti è un altro bel problema di istituzionale e di peso nella vicenda no? della politica quindi e quindi il problema della Corte Costituzionale va affrontato mi pare riduttivo concentrare la nostra attenzione sul fatto che legandolo molto ai referendum e dire vabbè la Corte si redima da sola il problema che io vedo è invece un ruolo molto pericoloso della Corte Costituzionale sulle decisioni del referendum ma non solo ma non solo anche queste novità di invitare il Parlamento a fare la legge dargli un anno poi la proroga insomma è un ruolo diverso e allora questo ruolo non può essere deciso solo dalla Corte Costituzionale forse dobbiamo decidere perché rischia di essere una novità insomma ecco quindi io penso che un'altra questione che che è stata posta da Pugiotto sul possibile esito incostituzionale dell'esito referendario e chi lo lo stabilirebbe no perché questo è un perché addirittura mi pare che Andrea ha detto allora diamo non i quanti sono 60 giorni aumentiamoli a 120 per fare intervenire ma cioè però sulla base di un giudizio di possibile incostituzionalità stabilito da chi ecco questo mi pare un altro punto su cui riflettere a me pare che vabbè togliere sul in concreto poi sul problema stretto dei referendum d'accordo sulle soluzioni per rendere più agevole la raccolta delle firme per presentarlo sull'ammissibilità o la soluzione avanzata al professor Curreri che potrebbe essere anche immaginata anche forse non dalla corte esercitata non dalla corte costituzionale ma dalla Cassazione forse si potrebbe anche pensare questa soluzione legando legando molto a una rinnovata tassatività e una discussione va va affrontata su questo perché per esempio la questione dei trattati internazionali che non è nell'articolo settantacinque ma viene evocata per cui in alcuni poi in alcuni referendum sulle droghe sono stati ammessi altri no ma sempre ma anche nazionale ma e questo non c'è nell'articolo settantacinque forse va chiarito perché non è immaginabile insomma che sia una spada di Damocle in questo modo quindi o si riscrive l'articolo settantacinque oppure si riscrive la legge però qualche vincolo deve essere introdotto in maniera chiara per esempio la dissenting opinion come si introduce nell'ordinamento non certo per decisione della corte stessa quindi qualche intervento credo che vada sì 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 ma ormai adesso prima o poi qualcuno dovrà dire santa camerale perché alla fine non era era forse l'unica cosa insomma rispetto a tutte le cose successive aveva comunque una organicità insomma comunque è andata così come si dice e no l'ultima questione sulla vabbè sull'anticipazione del giudizio detto questa ipotesi eccetera ecco la responsabilità civile dei magistrati io non ho ben presente la motivazione non mi è chiara la motivazione della del rifiuto del referendum tenendo conto che comunque ne era stato ammesso uno come è stata cambiata perché allora in questo gioco cabalistico un referendum può essere sullo stesso argomento può essere ammesso e poi successivamente no ecco mi pare che queste sono insomma un po' confusamente però alcune questioni che sono sul sul tappeto e dobbiamo insomma svolgerle tenendo conto che abbiamo un patrimonio di discussione è stato ricordato anche già un seminario a luglio che si è tenuto quindi argomenti ce ne sono molti e adesso Michele Passione che vedo e mi scuso per il ritardo ma arrivo da Firenze Lucca due processi e sono arrivato ora ho confusamente raccolto qualche qualche spunto e quindi ovviamente come dire fate grazie a delle cose che dico disordinatamente perché non ho assistito alla relazione di Andrea e neanche al dibattito se non in questa coda comincio dall'osservazione che ha fatto Franco adesso della quale colgo diciamo la intelligente provocazione ma sulla quale nutro qualche perplessità cioè la domanda perché mai il referendum non possano tenersi diciamo nel periodo elettorale che precede lo scioglimento delle camere e se non ricordo male correggimi se sbaglio nei sei mesi successivi insomma comunque diciamo sotto elezioni per capirsi e mi chiedo se l'ipotesi come dire caldeggiata contrario da Franco non potrebbe paradossalmente finire con lo schiacciare uno strumento di democrazia partecipata e in altre forme manifestato rispetto a quelle classiche della democrazia parlamentare così determinando quello che se non ho capito male ma qui chiedo a Andrea di di confortarmi o di smentirmi rispetto a quello che ho compreso potrebbe essere provocato dall'uso digitale della raccolta delle firme determinando una sorta di come dire plebiscitarismo se così si può dire comunque l'utilizzo in chiave plebiscitare da parte delle forze politiche o partitiche che utilizzino quello strumento per non tanto misurarsi con quel singolo tema ma per rafforzare una loro posizione politica tre brevi riflessioni su delle cose che ho sentito ora l'uno la tassatività il recupero di una tassatività di una valutazione da parte della corte sulla messibilità tenendo presente diciamo la tassatività ora mentre venivo in qua io ho ascoltato la registrazione di una vicenda conclusiva dinanzi al CSM dove sono dovuto andare a luglio per una vicenda processuale che adesso qui non importa rammentare e diciamo nella discussione anzi nelle dichiarazioni spontanee rese da questo magistrato che era sotto procedimento disciplinare questo magistrato ha credo opportunamente ricordato al CSM che il giudizio del CSM è sempre più tendenzialmente tassativo con un avverbio che si sposa a un aggettivo che ovviamente è uno simoro allora questo tendenziale questa tendenziale tassatività che poi vuol dire il suo esatto contrario non è questione solo della porte costituzionale sul referendum è questione che porta il formante giurisprudenziale a diventare deformante quindi è come dire un tema grande che necessiterebbe di un altro seminario la però è certo che questo è un problema e che come dire che si lega a quello che sto per dire adesso di recente Francesco Vigano ha come dire rivendicato il che poi mi porta all'ultima considerazione ha rivendicato il dovere non la preoccupazione il dovere della porte a tener conto degli effetti delle sue decisioni dovere che peraltro lui come dire spingeva anche mettendolo più in là mettendolo sulla scrivania di ogni giudice anche dei giudici ordinari cioè nessun giudice e meno che mai il giudice delle leggi può muovere i passi senza preoccuparsi di quello che succede per il passo che ha mosso è evidente che se questa preoccupazione è assai presente nella ma non devo dirlo ai costituzionalisti qui diciamo in tutte le sentenze della corte lo è paradossalmente secondo me errando questo è secondo me proprio un errore anche tecnico giuridico in materia referendaria perché chiama in causa il rapporto l'interazione fra legge e corte fra volontà popolare e corte l'ultima cosa è quella del contesto di nuovo mi viene in mente un saggio un articolo di Biletta Tega la corte nel contesto e la corte è certo che ha bisogno di un contesto però ha dimostrato secondo me su questo si potrebbe aprire un'altra riflessione che a volte così come fanno alcuni politici intelligenti e coraggiosi che come dire precedono l'eventuale raccolta o immaginaria raccolta del consenso popolare sulle decisioni che ritengono di assumere la corte ha anche dimostrato non voglio entrare qui nel merito se ha torto o ragione però ha dimostrato di anticipare o scartare di lato a volte cercando dando la sensazione di cercare un consenso in un contesto a volte dando la sensazione se mi consentite la parola inelegante di catafottersene e quindi come dire credo che anche questo tema cioè quello del contesto vada fatto oggetto di riflessione tenendo presente che però la corte non diciamo si muove un po' anche a seconda dei casi che le vengono posti in maniera un po' diversa scusate l'ho detta male ma sono stravolto dalla stanchezza e poi un po' scollegato dalle cose che avete detto prima mi pare che mancano all'appello solo due tre interventi ma io direi che forse possiamo se possiamo dare la parola a Andrea Pugiotto per no no anche lettere anche perché la cosa che ci piace di più è la conversazione quindi la parola a Andrea il mio orologio da prima comunione segna le 7 meno 5 mi do l'impegno di finire di rispondere alle 7 un quarto non un minuto di più ma neanche uno di meno perché ho raccolto diverse sollecitazioni e cercherò di rispondere anche in ordine di apparizione come si dice nei titoli di testa dei film anche se alcune domande possono essere anche se alcune domande possono essere accorpate la prima riflessione di Maria Luisa Boccia la coesistenza tra Parlamento e popolo che vota il referendum tra legge e strumento referendario non è solo giuridica è anche una coesistenza politica assolutamente d'accordo si può tradurre anche così la battaglia per il referendum e anche la battaglia per il Parlamento Simul Stabult Out Simul Cadent è il fil rouge che ha attraversato tutta la mia riflessione quindi sono assolutamente concordo su questa osservazione e spero che sia emesso chiaramente che questo era che era la matrice liberale della mia relazione diversi interventi Boccia Boato Pugliatti Zuffano posto il problema dei referendum traditi devo fare una precisazione perché è un tema che può valere per la legge sull'aborto che può valere per scusatemi può valere per la materia dell'aborto per le materie dell'acqua pubblica per la materia della responsabilità civile non per i suicidi assistito perché non c'è mai stato un referendum su suicidio assistito no? ecco ecco e allora qui è un problema che ha un aspetto giuridico o politico giuridicamente noi viviamo una situazione curiosa cioè l'iterreferendario ha un suo custode che si incardina nel momento in cui il referendum è dichiarato ammissibile e rimane in piedi fino al momento del voto e questo custode si chiama comitato promotore perché il comitato promotore in ragione delle 500.000 firme depositate diventa potere dello Stato e dunque ha la possibilità ad esempio di sollevare conflitti di attribuzione nei confronti di decisioni non solo normative ma anche amministrative pensate alle decisioni sulla campagna referendare di informazione a tutela dello svolgimento e dell'esito utile del referendum qual è il problema? che una volta che il voto si è svolto il comitato ha esaurito la sua funzione e quindi se il comitato solleva un conflitto di attribuzioni dopo il voto ad esempio contro una legge che ha tradito il referendum quel conflitto è dichiarato dalla corte inammissibile perché il comitato referendario ormai ha esaurito la sua funzione istituzionale è un senso perché tu tuteli la fase genetica ma non tuteli la volontà popolare espressa nel voto referendario questo è un problema di interpretazione è un problema di giurisprudenza costituzionale è un problema su cui la dottrina dovrebbe lavorare per a mio avviso trovare argomenti per dire che il comitato promotore è permanentemente tutore della volontà referendaria anche qua anzi a forziori per come vedo io quando il voto si è espresso ciò non significa che non esistano meccanismi giuridici di tutela rispetto a un esito referendario ad esempio se il Parlamento approva una legge che è in frode alla volontà abrogativa referendaria espressa ci sono degli altri come dire delle alti fusibili il capo dello Stato che secondo me avrebbe motivo per inviare quella legge al Parlamento in sede di promulgazione della legge oppure se quella legge viene promulgata la possibilità di impugnarla davanti alla Corte Costituzionale perché è lesiva della volontà popolare abrogativa espressa attraverso il voto a cosa che è accaduta perché quella citazione che io ho fatto di alcune sentenze della Corte dove la Corte ha disegnato un qualche vincolo derivante dal voto referendario in capo alla discrezionalità legislativa sono state espresse esattamente perché la Corte era stata chiamata a pronunciarsi sul fatto se la legge successiva approvata dal Parlamento fosse o meno in frode al referendum espresso e li dico dopo questo sul piano giuridico sul piano politico vorrei far presente una cosa bisogna distinguere fra il quesito esplicito del referendum e il quesito implicito il quesito esplicito è la produzione normativa conseguente al voto abrogativo totale o parziale ha un suo perimetro giuridico e tu puoi tutelare giuridicamente quel perimetro giuridico ma non puoi pretendere che giuridicamente venga tutelato il quesito implicito cioè il significato politico la battaglia politica che quel quesito traina con sé mi spiego con un esempio sono stati ricordati i referendum in materia nucleare ora quei referendum erano tre se non ricordo male andavano a colpire specifiche disposizioni legislative ad esempio sull'allocazione delle centrali nucleari e cose di questo tipo quello è il quesito esplicito dopodiché è evidente che quei quesiti incorporavano un quesito implicito che era esprimiamo un dirizzo politico contrario all'uso del nucleare all'interno del nostro paese ma questo quesito implicito non può trovare una tutela giuridica può trovare una tutela solo politica i meccanismi di tutela giuridica che sia il rinvio del capo dello stato che sia il sindacato della corte che sia il conflitto di attribuzioni sollevatolo dal comitato promotore non può che riguardare l'effetto normativo non l'intenzione del comitato promotore che non entra in gioco e che giuridicamente non può rilevare l'ultima cosa so di andare di perdere punti dicendo questo me lo devo dire per coerenza rispetto alla mia relazione se davvero noi crediamo che esiste una coesistenza dialettica tra democrazia rappresentativa e democrazia referendaria allora la possibilità per il Parlamento di intervenire prima del voto referendario ad abrogare o a modificare la materia come pure la possibilità per il Parlamento di intervenire dopo il voto referendario è perfettamente legittimo rientra nella fisiologia della democrazia liberale ovviamente è una condizione che l'intervento prima del referendum sia realmente innovativo come dice la Corte e che il referendum post e che l'intervento legislativo posto referendario non sia in frode alla volontà della volontà espressa dal corpo elettorale Boato ricordava agganciandosi nel mio passaggio incidentale che il primo la prima tornata referendaria che buca il quorum è quella del 1990 e ricordandone anche il perché se quel referendum sui pesticidi fosse andato da solo il quorum sarebbe stato superato e presumibilmente avrebbero vinto sia l'abrogazione i due referendum sulla caccia aggregati hanno invece affondato tutto perché le associazioni venatorie hanno fatto quello che poi ha fatto in maniera superlativa il cardinale Ruini in occasione del referendum sulla legge 40 dimenticando che l'Evangelo dice cioè il vostro parlare sia sì sì no no il resto a stensione a stensione è frutto del demonio ecco mi aggancio all'osservazione che ha fatto Marco perché mi permette di recuperare alcuni elementi che ho messo in sede di relazione a sostegno di quanto la presenza del quorum alteri la parità delle armi ma di più alteri la fisiologica dinamica referendaria pensateci un attimo quanto più il no nel referendum si declina nel più comodo no al voto referendario scompare il confronto sul merito del quesito addirittura quel confronto trova un suo luogo improprio nella discussione che si svolge alla Corte Costituzionale in sede di giudizio di ammissibilità perché la Corte con uno dei suoi colpi di ingegno da alcuni anni a questa parte ha messo un minimo di contraddittorio anche in sede di giudizio di ammissibilità con il risultato che i comitati per il no portano davanti alla Corte argomenti politici contrari al referendum e se la Corte invece dichiara ammissibile il quesito se ne guardano bene da portarli nell'agorà della campagna referendaria lì invece cercano di soppire sedare invitare ad andare al mare perché sono interessati a associare a loro a loro contrarietà quella fisiologica astensione di cui parlavamo prima direi di più in una campagna referendaria dove chi è contrario al referendum gioca sull'astensione e quindi andare a votare è fondamentalmente votare per il sì questa era la situazione del referendum sulla legge 40 secondo me è messa in pericolo anche la segretezza del voto addirittura un dato altrimenti statistico informare gli elettori a ordine aperte di quanta gente è andata a votare diventa un dato politico capite quanto quindi il quorum al di là degli elementi strutturali che dicevamo prima alti di stravolga completamente la logica della campagna referendaria la ultimo chi è che ha inventato l'astensione come strumento per sabotare il referendum il primo invito all'astensione non è quello di Craxi e di Bossi in occasione del referendum elettorale non è nemmeno quello suggerito da pannella Craxi in occasione del referendum sulla scala mobile non è nemmeno quello dei cacciatori che Marco ricordava il primo invito all'astensione è un invito curiosamente virtuoso dal mio punto di vista i cattolici del dissenso che nel referendum del 74 sul divorzio invito ad astenersi Scoppola e altri Boato una componente del mondo cattolico invitò all'astensione il libro di Andrea Morrone che ricostruisce dettagliatamente le storie di referendum questo lo mette bene in evidenza sempre Boato ricorda attingendo anche la sua esperienza personale che in Parlamento non sono impossibili riforme costituzionali ne abbiamo parlato no? la possibilità di lavorare sull'articolo 75 della Costituzione per vedere di ricondurre la Corte entro i binari delle sue competenze il record di modifiche costituzionali appartiene alla diciottesima legislatura quella che si è appena interrotta perché questo è un paese che boccia che abortisce tutte le riforme di sistema ma quanto a modifiche settoriali del testo costituzionale si dà da fare nella scorsa della legislatura appena interrotta è stato modificato il numero di deputati e senatori è stato riconosciuto il voto è dei ciottenni anche per il Senato sono stati modificati gli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di ambiente di tutela delle future generazioni e di diritti degli animali l'ultima modifica approvata in via definitiva con un voto della Camera quattro giorni dopo che era già stata sciolta la modifica dell'articolo 119 vero Totò della Costituzione sulla insularità ecco è stato perché semplicemente sì no certo perché adesso bisogna vedere se vengono raccolte le firme per i tre per il referendum e tutto questo per dire che incardinare modifiche costituzionali è possibile e allora parte la battaglia storica a cui tengo molto della società della ragione per una modifica della riforma dell'articolo 79 della Costituzione ripartendo dal disegno di legge costituzionale firmato da Riccardo Maggi si può anche pensare Maggi lo ha proposto espressamente con Leone l'ha richiamato prima a una modifica dell'articolo 75 della Costituzione non mi interessa adesso il dettaglio questo potrebbe essere così vengo all'osservazione di Perduca la miccia il detonatore modificare l'articolo 75 della Costituzione darebbe la possibilità alla Corte la prima volta che viene chiamata a giudicare la mia società di un referendum di dire è cambiato il parametro a questo punto posso rivedere la mia giurisprudenza può essere altrimenti un'altra miccia più temeraria ne abbiamo parlato molto con il capitato promotore del referendum sulla cannabis è l'atto da kamikaze di un conflitto di attribuzioni promosso dal comitato promotore del referendum sulla cannabis forse anche sul referendum di eutanasia contro la Corte Costituzionale per le due sentenze pronunciate in quanto per ragioni diverse esercizio di una funzione che la Corte Costituzionale non ha è il caso della giudizia di ammissibilità anticipato o per un uso improprio dei poteri che ha è il caso della giudizia di inammissibilità del referendum eutanasia è ovvio che quel conflitto si perde però al di là dell'esito specifico del conflitto quel ricorso potrebbe essere l'occasione per costringere la Corte a fare i conti con la sua giurisprudenza Boato e Zuffa con riferimento al quorum di struttura di validità invitano a perseguire la via del taglio gordiano del nodo cioè eliminiamo il quorum strutturale perché non si giustifica costituzionalmente e perché produce quelle distorsioni di cui parlavamo poc'anzi è una soluzione io stesso l'ho prospettata in sede di relazione voglio però precisare questo perché è venuto fuori nell'intervento di Marco c'è una ragione per cui l'articolo 138 non prevede un quorum mentre è previsto nell'articolo 75 il quorum nell'articolo 75 non si giustifica per le ragioni che ho detto l'assenza di quorum sull'articolo 138 si giustifica e come si giustifica a parte che il parallelo è improprio perché l'articolo 75 ci parla di un referendum che è fonte del diritto il referendum che è incapsulato nella procedura referendaria è una fase di un procedimento non è una fonte ma quel referendum ex articolo 138 non ha un quorum perché è pensato a tutela delle minoranze chi può promuovere il referendum contro una legge costituzionale un decimo dei membri di una camera 500.000 elettori o 5 consigli regionali cioè una minoranza parlamentare una minoranza elettorale una minoranza territoriale è una minoranza contraria che chiede il referendum perché chi è favorevole lascerebbe decorrere i tre mesi senza non raccogliere le firme perché la legge approvata maggioranza assoluta diventerebbe legge costituzionale ma se così è se quindi il referendum costituzionale è uno strumento di minoranza mettere il quorum strutturale di validità significa uccidere quello strumento perché una minoranza non riuscirà mai a diventare maggioranza ecco la saggezza del costituente lì quando è in gioco una norma costituzionale elimino il quorum perché una minoranza andrà senz'altro a votare contro quella modifica costituzionale e quindi si costringe chi ha approvato quella legge costituzionale a difenderla nel momento del voto un'ultima osservazione sul quorum a dimostrazione che non ha senso quel quorum perché è un innesto di una logica rappresentativa in una procedura di democrazia diretta ricordo che l'articolo 64,3 della costituzione salvatore correggimi se sbaglio che tu di dito parlamentare ne sai senz'altro più di me però l'articolo 64,3 che prevede la maggioranza assoluta prevede anche nei regolamenti parlamentari dei meccanismi per cui ad esempio i parlamentari in missione vengono scorporati perché invece il referendum il quorum strutturale di valità del referendum è quello fisso e non esistono flessibilità ecco allora da questo punto di vista è un argomento in più per recuperare la subordinata cioè se non eliminiamo il quorum almeno ricalcoliamolo non sugli avventi diritto al voto ma sui votanti dell'ultima votazione politica generale Marco Perduca mi invita a chiarire l'equivoco sulla mistica della democrazia digitale allora io nella mia relazione quando parlo di mistica della democrazia digitale quando parlo di praudolenta esaltazione della democrazia digitale all'insegna del uno vale uno è evidente a cosa mi esprimi a cosa a cosa penso penso all'idea di ridurre il Parlamento in una scatola di tonno e di sostituire progressivamente il Parlamento con voti su una piattaforma magari privata con l'idea che tutti noi possiamo digitare decidere qualunque cosa in qualunque momento perché uno vale uno questa è la democrazia digitale che pavento non certo lo strumento digitale applicato alla democrazia referendaria ad esempio nella fase dell'iniziativa attraverso la firma digitale lo dico così se la partecipazione è normata in una relazione proceduralizzata se l'intervento del popolo è normato in modo da non essere antagonista al Parlamento ma in una funzione di leale collaborazione con il Parlamento io non ho nulla da dire ma l'idea del popolo che è un affizio perché non esiste il popolo come categorie unitarie che ha interessi unitari possa essere usato come arma da lanciare contro l'Assemblea parlamentare questo per un liberale è né più né meno che bestemmiare in chiesa e bestemmiare in chiesa dopodiché sono stati fatti degli interventi di Marco Perduca di Sandra sulla democrazia deliberativa e partecipativa questo è un altro orizzonte non ha a che vedere con il referendum non ha a che vedere con la mistica dei 5 stelle è un altro orizzonte che richiederebbe una riflessione molto più ampia e comunque è un ampio orizzonte che io rimando alla sezione seconda di questo seminario perché ha a che fare molto di più con il Parlamento piuttosto che con il referendum abrogativo popolare se non per ricordare ma sono sicuro di chi di questo sia Salvatore Curelli sia Marco Boato domani ne parleranno che la firma digitale è possibile non solo per il referendum abrogativo ma anche per l'iniziativa legislativa popolare che è stato fino a l'altro ieri la cenerentola ma che ieri potevano pensare vivesse una nuova stagione perché le modifiche al regolamento del Senato introdotte nella scorsa legislatura avevano creato una consiglia preferenziale per l'iniziativa no la precedente perché era già Grasso che aveva introdotto le modifiche la diciassettesima legislatura le modifiche introdotte nel regolamento del Senato prevedevano una consiglia preferenziale per l'iniziativa legislativa popolare dopodiché se c'è una presidente del Senato che sarebbe chiamata a garantire le regole del regolamento del Senato e non lo fa questo non è un problema di norma è un problema di applicazione ma su questo immagino che Marco allora Correri perora l'ipotesi di anticipare il giudizio di ammissibilità in spirito di leale collaborazione sostanzialmente per consentire al comitato promotore su indicazioni della corte di riformulare adeguatamente il quesito allora io la vedo così la corte costituzionale è competente a riscontrare i vizi di contenuto del quesito referendario i limiti modali cioè il modo in cui è formulato un quesito non è di competenza della corte è di competenza dell'ufficio centrale per il referendum la corte la tratta a sé la tratta a sé questa competenza ma non era sua non era sua ecco perché io preferirei invece che una concertazione chiamiamola così che questa competenza fosse restituita al momento del controllo di legittimità che fa l'ufficio centrale anche per una ragione che mentre è molto difficile sollevare un conflitto di attribuzioni contro una sentenza della corte costituzionale è più facile farlo nei confronti dell'ufficio centrale per il referendum Meringolo Meringolo ci ricorda nella sua riflessione che il vero titolare del potere referendario non sono i sottoscrittori è il comitato promotore allora intendiamoci il piano sostanziale è certamente vero trovo questa questo elemento nella tua riflessione che era più ampia è vero perché chi formula il quesito chi formula la domanda il comitato promotore chi raccoglie le firme il comitato promotore chi in quanto potere dello Stato difende la procedura referendaria il comitato promotore e tuttavia inviterei tutti a non sottovalutare il dato formale secondo il quale il potere è dei 500.000 sottoscrittori perché questo dice l'articolo 75 secondo coma sono 500.000 elettori che sottoscrivono il referendum il comitato promotore è l'ente esponenziale che come dire opera in nome per conto di questo dato formale non è solo formale perché permette di evitare lo stravolgimento del rapporto fra un comitato e sottoscrittori quello che è a mio avviso incredibilmente avvenuto nell'ultima tornata referendaria in occasione di referendum sulla giustizia giusta dove a un certo punto alla vigilia del deposito delle firme il comitato promotore ha deciso unilateralmente di non depositare le firme ha messo in un concesso che avessero raccolto davvero più di 500.000 firme regolari per i sei quesiti ma consideriamo anche il comitato promotore ha deciso alla vigilia del deposito di non presentare le firme lasciando quindi che i quesiti fossero promossi dalle regioni questo secondo me significa rovesciare il rapporto fra servente e servito il potere sono i 500.000 elettori il comitato promotore dal mio punto di vista non aveva né il diritto senz'altro non politico forse anche giuridico di fare quello che ha fatto perché non è il comitato il potere il potere nei 500.000 sottoscrittori che oltre a essere stati presi in giro perché hanno firmato inutilmente si sono visti anche frodati di quello che era la loro competenza costituzionale certo perché è ovvio perché a quel punto lì chi andava chi andava a difendere il referendum in televisione erano le regioni e chi aveva la natura di potere dello Stato che poteva difendere il referendum erano le regioni infatti si continuava a parlare trattissimamente di referendum radicale leghista in realtà era un referendum regionale era un referendum regionale allora ho ultimi due telegrammi e quindi ho bucato del quarto d'ora Franco Corleone si domanda come sia stato possibile che un referendum sulla responsabilità civile dei magistrati ammesso anni fa sia stato bocciato oggi la risposta è molto semplice il quesito esplicito non era lo stesso perché si riguardava due testi legislativi diversi dove sta la problematicità della sentenza 49 del 2022 la Corte ha sempre distinto fra referendum abrogativi parziali che consentono di attraverso un quesito che colpisce parte della legge di fare riespandere principi presenti nell'ordinamento questi sono ammissibili referendum invece abrogativi manipolativi cioè che inventano attraverso un'opera di ritaglio principi e norme che non erano presenti nell'ordinamento secondo la Corte non sono ammissibili perché tradiscono la natura abrogativa del referendum ora francamente nel caso specifico la Corte ha detto che il referendum era inammissibile perché avrebbe introdotto un principio la responsabilità diretta del singolo giudice che dice la Corte non è contemplato nel nostro ordinamento io vi assicuro che mi riesce più facile a spiegare il dogma della transustanziazione che spiegare ai miei studenti la differenza fra un referendum abrogativo manipolativo e un referendum ammissibile e un referendum parziale ammissibile anche perché come diceva Crisafulli abrogare non significa non disporre ma disporre diversamente e mi è sempre sfuggito l'idea che un referendum non possa rovesciando disegno una norma introdurre qualcosa di nuovo mi sembra anzi incapsulato nella sua capacità l'ultima osservazione la devo a passione passione mi chiede mi chiede conto del perché io parlo di un pericolo di un automatismo plebiscitario referendario cioè il fatto che la possibilità di raccogliere digitalmente le firme renderebbe possibile fare del referendum un tempo supplementare rispetto al voto parlamentare l'ho spiegato prima in serie di relazione io credo che i referendum autenticamente costituzionali sono quelli bottom up sono quelli che provengono dal basso dal corpo sociale non top down l'idea che un partito che ha perso la battaglia in Parlamento ricorra il corpo elettorale contro quella legge mi sembra un uso appunto populistico dello strumento peggio ancora se chi ha vinto la battaglia in Parlamento richiede il referendum per plebiscitare quella legge da qui la mia proposta che non hai potuto leggere perché te l'ho aggiunta dopo di prevedere un periodo di sospensione biennale o triennale che impedisca l'abrogazione di leggi appena approvate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale in modo tale che quella legge nel frattempo si sedimenti nel suo significato nell'interpretazione e applicazione dei giudici eventualmente venga anche sindacato dalla corte costituzionale e comunque disinneschi questo meccanismo come dire populistico c'erano anche altre cose non so se posso andare avanti perché era il foglio 3 no no foglio 5 foglio zuffa zuffa ci dice che il quesito cannabis ho invertito il foglio 5 e il foglio 4 ecco perché salta l'ordine delle il quesito cannabis era accorto con senso non perché c'era una firma digitale ma perché c'era una battaglia plurinare alle spalle sono assolutamente d'accordo ed è quello che ho detto in serie di relazione non conta il vettore conta la credibilità del comitato la capacità di fare rete con altre associazioni e la qualità della domanda posta con leone invita di sbloccare a sbloccare i blocchi della legge 352 dei 70 ad esempio perché non accorpare referendum ed elezioni io sono d'accordo peraltro questa cosa sdrammatizzerebbe anche il problema del quorum nella misura in cui il quorum non venisse superato e quanto la proposta che io ho fatto di allungare la finestra di sospensione della legge eventualmente dell'abrogazione referendaria da 60 a 120 giorni tu dici ma chi è che giudica lo si dovrebbe fare perché si teme che la legge che l'esoreferendario sia incostituzionale non necessariamente se fosse passato l'ammissibilità del referendum sull'eutanasia e fosse stato vinto avremmo avuto un risultato normativo che richiedeva di essere perfezionato dal legislatore se il legislatore avvesse avuto 120 giorni di tempo e la collaborazione fra voto referendario e voto legislativo avrebbe portato un corpo normativo più coerente perché il referendum è unilaterale unidirezionale quindi può sagomare ma non può dettagliare la normativa l'ultimo problema che è stato posto da Colleone e da Passione è il problema della Corte Costituzionale che entrambi dicono con accenti diversi trascende la materia referendaria questo è oggetto di un altro seminario io qui mi limito io qui mi limito a dire che la Corte Costituzionale è un'anima divisa in due politica giurisdizionale e nella sua storia questo pendolo è sempre oscillato da una parte e dall'altra e oggi chiaramente il pendolo è nell'anima politica e tuttavia inviterei tutti a non buttare con l'acqua sporta anche il bambino perché la Corte Costituzionale svolge un ruolo contro maggioritario nel momento in cui è chiamato ad annullare leggi approvate dalla maggioranza parlamentare a terra dei diritti di libertà attenzione quindi a non confondere il giudizio di ammissibilità in cui la Corte dà lo dirico giudicativamente il peggio di sé con le altre funzioni della Corte in cui forse in cui il giudizio credo dovrà essere più generoso con tutti distingo e le osservazioni del caso chiudo con una osservazione a futura memoria che riguarda la Corte Costituzionale ieri è stato nominato un nuovo giudice della Corte in sostituzione di Giuliano Amato che ha finito il suo mandato nomina presidenziale nel 2023 scadranno tre giudici Niccolò Zanone e Dari De Petris di nomina presidenziale e la giudice Sciarra Silvana Sciarra di elezione parlamentare e nel 2024 scadranno tre giudici Franco Modugno Giulio Prosperetti e Augusto Barbera tutti di elezione parlamentare e così torniamo alle elezioni del 25 di settembre non esiste una regola scritta che imponga una come dire un'elezione da parte del Parlamento di giudici espressioni di aree politiche culturali diverse esisteva ai tempi della cosiddetta prima repubblica una convenzione che è saltata perché i soggetti che l'avevano firmata non esistono più oggi si va ma si naviga a vista il che vuol dire che una maggioranza parlamentare che uscisse dalle elezioni del 25 di settembre con una maggioranza dei tre quinti dal quarto scrutino in poi potrebbe eleggere i suoi giudici al di fuori di una concertazione con le altre forze parlamentari anche su questo bisognerà vigilare grazie mi scuso ma le cose erano tante grazie